Cari amici, vi parlerò di fatti drammaticissimi, e cioè delle guerre galliche che Giulio Cesare intraprese più di duemila anni fa in Gallia. Nella prima parte del suo libro, Il Debello Gallico, Cesare ci parla della conformazione della Gallia e anche dei popoli che la abitano. Ci dice che la Gallia è suddivisa in tre parti. Una è abitata dai Belgi, che popolano l'attuale Belgio, tanto per intenderci, cioè la zona nord-orientale dell'attuale Francia. Un'altra dagli Aquitani, che popolano la parte sud-occidentale dell'attuale Francia, e cioè quella che costeggia i monti Pirenei. E la terza parte, invece, è quella centrale, popolata da quelli che all'epoca erano detti Celti. Questi Galli, cari amici, erano poi suddivisi in tantissimi popoli dai nomi curiosissimi. Si va dai Pittoni, ai Santoni, agli Aulerci, ai Lingoni, agli Edui, importantissimi nel corso di questo libro, agli Elvezzi che popolano l'attuale Svizzera per arrivare ai Veneti, che non popolavano il Veneto, bensì l'attuale Bretagna. Il popolo più forte, dice Cesare, è senz'altro quello dei Belgi. Questo per varie cause. Innanzitutto perché sono molto lontani dal territorio dell'antica Roma, e non so se questo implichi un certo senso dell'umorismo di Giulio Cesare. Inoltre perché non vengono visitati dai mercanti, i quali perciò non introducono le merci atte a infiacchire gli animi, e infine perché confinano con i Germani, con i quali sono continuamente in battaglia. Per questo stesso fatto anche il popolo degli Elvezzi è un popolo molto forte. Il popolo degli Elvezzi è quello che dà l'occasione per cui Cesare attacca battaglia. Il primo personaggio che incontriamo si chiama Orgetorige, un nome bellissimo, che fa una brutta fine perché tenta di mettersi a capo del suo popolo, cioè gli Elvezzi, ma usa metodi che non piacciono al suo popolo, quindi viene imprigionato, ma nel giorno fissato per il dibattimento, ci dice Cesare, Orgetorige fa intervenire tutti i suoi familiari e servi, che sono circa 10.000, e grazie a loro si sottrae al processo. Mentre il popolo però indignato si accingeva a far osservare le sue leggi con le armi, Orgetorige muore. Quindi termina qui la breve storia di questo Orgetorige, però malgrado la sua morte gli Elvezzi, che popolano il territorio dell'attuale Svizzera, pensano che sia il caso di espandersi in terre più fertili, per varie cause, anche perché loro sono in un territorio evidentemente non fertile e comunque molto angusto, e hanno due sole possibilità di uscire da queste terre. Cioè un passaggio a ovest, che è molto molto stretto e quindi attaccabile, diciamo, oppure un passaggio a sud, il quale passaggio però implica l'entrata all'interno della provincia romana. Quindi chiedono di entrare nel territorio dell'antica Roma, il permesso ovviamente non gli viene concesso e quindi Cesare, che è preoccupatissimo dal fatto che questi Elvezzi vogliono entrare in territori in cui poi potrebbero costituire un pericolo per il popolo romano, accorre subito. Allora, cosa fanno questi Elvezzi? Bruciano tutto il loro grano, bruciano i villaggi, bruciano tutto, insomma, per essere certi di non tornare più indietro, come si usa a dire tagliano i ponti alle proprie spalle. E poi, dopo essersi alleati con altri popoli, i rauraci, i tulingi, i latovici e i boi, che sono fortissimi, entrano nel territorio della Gallia, attraverso il passaggio stretto che vi ho detto. Assicurano ai popoli che abitano queste terre fertili che non faranno nessun danno e poi, ovviamente, invece, quando sono lì iniziano a saccheggiare e a fare tutto quello che vogliono loro. Cesare, intanto, accorre come un fulmine presso la città di Ginevra e fa abbattere subito il ponte che è l'unica possibilità di collegamento con il territorio degli allobrogi, che sono alleati degli antichi romani. Gli Elvezzi subito mandano degli ambasciatori, che si chiamano Nammeio e Veruclezio, e gli dicono in pratica questo. Caro Cesare, guarda, noi siamo per la pace. Se tu vuoi, concedici delle terre e noi andremo lì. Ma se invece tu vuoi combatterci, ricordati che ti abbiamo già battuto altre volte e quindi stai attento. Cesare, che non li teme assolutamente, tuttavia per prendere tempo e per organizzare un qualche piano, dà loro appuntamento a un giorno preciso, il 13 di aprile. Cesare, che non si fida per niente dei Galli e li considera un popolo infido, che cambia opinione continuamente, cioè insomma dei mezzi matti, dà ordine di costruire un muro. Un muro, cari amici, lungo 19 miglia e alto 16 piedi. Cioè stiamo parlando di 28 chilometri di lunghezza e di un'altezza di 5 metri. Quindi pensate quanto lavoro, quanti giorni. Insomma, in breve tempo fa questo muro imponente. Quando arrivano gli elvezzi, che non si aspettano assolutamente ciò, lui ovviamente gli dice che non li farà passare mai, loro tentano di attraversare il fiume con dei mezzi molto rozzi, barconi, zattere, ma non ce la fanno. Allora tentano di entrare nel territorio della Gallia a ovest. Ovviamente devono mandare delle ambasciate ai popoli che sono oltre quella via. E quindi si servono dell'intercessione di un capo degli edui, Dumnorige. Perché? Perché Dumnorige era il marito della figlia di Orgetorige, il povero Orgetorige. Assicurano che entreranno nel territorio della Gallia senza fare danni e poi invece quando sono là iniziano a fare tutto quello che vogliono loro, orge, scorrerie, eccetera, eccetera, eccetera. Cesare, preoccupatissimo da tutti questi atti turpi compiuti dagli elvezzi, piomba nel territorio degli edui, fa arrivare delle truppe addirittura dalla città di Aquileia. Voi pensate quant'è lontana questa città ancora oggi? Questo fa un po' ridere forse, che Aquileia sia lontana. E quindi quando ha riunito tutte le sue truppe, Cesare attacca una prima volta il popolo degli elvezzi. Approfitta del fatto che questi stanno tentando di attraversare lentamente il fiume Saona, li osserva e quando vede che i tre quarti di quel popolo sono già sull'altra riva, attacca l'ultimo quarto, quello che è ancora da questa parte. Li massacra tutti e si rende conto che questi appartengono alla tribù dei Tigurini, che si sono resi colpevoli dell'uccisione del console Cassio e altresì dell'uccisione di un suo avo, cioè di un avo di Cesare. Quindi è contentissimo di questo fatto. Dopo questo combattimento Cesare attraversa il fiume Saona in un solo giorno, con un ponte. Gli elvezzi sono stupitissimi di questo fatto, perché loro ci hanno messo venti giorni, e allora gli mandano subito un'ambasciata, capeggiata da Divicone, il quale dice pressappoco queste cose. Cesare, se vuoi fare la pace con noi, allora noi ci adattiamo, tu indicaci qualche posto in cui andare e noi stiamo lì tranquilli. Ma se invece vuoi combattere ancora, sappi che noi siamo forti e che vi abbiamo anzi battuti già. Mi piace allora leggervi quello che risponde Giulio Cesare, parlando sempre di sé in terza persona. Ben poco egli aveva da esitare, perché tutto quello che gli elvezzi gli avevano ricordato era ben fisso nella sua mente, e con tanto più dolore, quantomeno per colpa dei romani, il fatto era accaduto. Ai romani infatti non sarebbe stato allora difficile prendere le necessarie precauzioni se avessero avuto coscienza di aver mai offeso gli elvezzi. Essi erano stati colti di sorpresa perché non sapevano di aver commesso qualcosa per cui temere, né pensavano di dover temere senza motivo. Che essi potessero gloriarsi con tanta insolenza della loro vittoria e meravigliarsi di essere sfuggiti per tanto tempo al castigo, dipendeva da un motivo solo, che gli dèi immortali, a coloro che vogliono punire per qualche colpa, talvolta concedono maggiore prosperità e più lunga impunità perché più gravemente si debbano dolere della mutata fortuna. Pur tuttavia, se a garanzia delle proprie promesse avessero dato degli ostaggi e risarcito gli edui, gli allobrogi e i loro alleati, egli era disposto a concludere la pace. Di Vicone, il capo degli elvezzi, rispose che gli elvezzi avevano imparato dai loro antenati a prendere, non a consegnare ostaggi. Ciò detto, partì. Inizia a questo punto un inseguimento, nel senso che gli elvezzi tolgono il campo, iniziano a mettersi in marcia e marciano per 15 giorni sempre con l'esercito di Cesare alle loro calcagna, il che significa 5 o 6 miglia, che vuol dire 8 o 9 chilometri. Qui si fa il primo incontro con il problema dell'approvvigionamento. Ovviamente tante truppe mangiano e quindi Cesare deve preoccuparsi sempre che ci sia abbastanza grano. Allora chiede agli edui, che ovviamente gli hanno chiesto di essere aiutati, chiede agli edui questo grano. E gli edui invece, con tante scuse, non glielo fanno arrivare. Quindi Cesare, dopo qualche giorno, si rende conto che questi stanno ingannandolo e allora convoca due capi degli edui, di nome Diviziaco e Lisco. Interroga in modo molto aspro questi due e alla fine si rende conto che c'è qualcuno, questo per ammissione di uno dei due, in particolare Lisco, si rende conto che c'è qualcuno, qualche personaggio importante degli edui che ha in mente di ostacolare Cesare. E quindi con una mossa, con una delle sue mosse furbe, manda via tutti e trattiene presso di sé il solo Lisco, il quale ovviamente parla senza paura, essendo solo con Giulio Cesare, e gli spiega che questo cittadino, cioè quello che sta tentando di ingannare Cesare, è il fratello di Diviziaco, Dumnorige. Dumnorige è un personaggio importantissimo presso gli edui, che odia Cesare perché dopo il suo intervento egli ha perso tantissima della sua forza, cioè prima che arrivasse Cesare questo Dumnorige era un personaggio importantissimo, invece adesso che è arrivato Cesare ovviamente ha perso tanta della sua autorità e allora cerca con qualche trucco di non far vincere Cesare. Quindi Cesare ha questa grana, deve affrontarlo, nello stesso tempo non può farlo condannare in pubblico perché vuole mantenere i buoni rapporti con Diviziaco, quindi arriva al punto di convocarli e di perdonare in pubblico Dumnorige, però da ordine ai suoi uomini di controllarlo. Quindi Cesare deve affrontare Dumnorige e nello stesso tempo, essendo questi fratello di un suo alleato, deve fare in modo diciamo di non condannarlo. Quindi convoca Dumnorige, lo perdona in pubblico, ma contemporaneamente dà ordine ai suoi uomini di controllarlo. In questo stesso giorno Cesare riceve dagli esploratori l'informazione che gli elvezzi sono fermi alla base di un monte, a otto miglia circa dal suo accampamento. Quindi manda uno dei suoi uomini migliori, Tito Labieno, con l'ordine di occupare la sommità di questo monte. Tito va e occupa, ma accade un fatto strano, cioè che all'improvviso Considio arriva correndo a briglia sciolta e riferisce a Cesare che in realtà la sommità del monte è occupata dagli elvezzi. Cesare, che stava già per attaccare, a quel punto si ferma, perché è una cosa che non si aspettava. Finalmente, a giorno già inoltrato, Cesare sa dagli esploratori che il monte invece era effettivamente nelle mani dei suoi uomini e che Considio, sconvolto dalla paura, gli aveva riferito ciò che in realtà non aveva visto. Quindi Cesare vede fallire, a causa dell'errore di uno dei suoi uomini, il suo piano di attacco. Però imperterrito lui continua con questa sua tattica di inseguimento. Il giorno dopo si rende conto che mancavano solo due giorni alla distribuzione del grano alle sue truppe e si accorge, altresì, che la città più importante degli Edwi, cioè il popolo che gli deve dare il grano, cioè la città di Bi-Bracte, è a solo 18 miglia. Allora Cesare pensa di andarvi. Quando i Galli si accorgono che le truppe di Cesare si allontanano, quando i Galli stessi pensano anche a quello che era accaduto il giorno prima, cioè che Cesare non li ha attaccati, allora pensano che Cesare fugga e quindi lo attaccano alle spalle. Questo è il fatto che dà inizio a questa battaglia. Quindi gli Elvezi attaccano la retroguardia di Cesare, il quale quando se ne accorge, porta le sue truppe su un colle. Perché in questi combattimenti è importantissimo essere sempre più alti, essere in un posto più alto rispetto agli avversari. Qui fa una cosa che mi piace leggervi, cioè Cesare fatto allontanare e mettere fuori vista prima il suo cavallo, poi quelli di tutti gli ufficiali, per rendere uguale per ognuno il pericolo e togliere la speranza della fuga, esortò i suoi uomini e attaccò battaglia. Allora accade che attacca prima Cesare con un lancio di giavellotti che si configgono in parte negli scudi degli Elvezi e in altra parte invece hanno l'obiettivo diciamo di rompere la loro formazione. Poi c'è un attacco sempre delle truppe di Cesare con le spade in pugno contro i Galli. Questi buttano via il loro scudo in cui si è infilzato il giavellotto, c'è un combattimento corpo a corpo, alla fine del quale perdono i Galli e fuggono su un colle. Però a questo punto arrivano i boi e i tulingi che chiudono la formazione degli Elvezi che attaccano sul lato destro le truppe di Giulio Cesare. Allora gli Elvezi che sono sul colle tornano giù e c'è un altro scontro. In tutto questo combattimento che dura da luna fino alla sera, Cesare dice che nessuno pote dire di aver visto il nemico in fuga. Si combatte ancora fino a notte fonda finché Cesare vince, conquista il campo degli Elvezi e addirittura fa prigioniera la figlia di Orgetorige. I superstiti degli Elvezi, il numero di circa 130.000 uomini, fuggono nel territorio dei Lingoni e non possono essere inseguiti dalle truppe di Cesare, perché ovviamente ci sono tanti morti, ci sono tanti feriti, ma Cesare manda ai Lingoni dei messaggeri che ammoniscono quel popolo a non aiutare in nessun modo gli Elvezi. I quali Elvezi, alla fine indeboliti, in numero scarso, mandano degli ambasciatori a Cesare per offrirgli di arrendersi. Cesare pone delle condizioni molto dure e nell'accampamento Cesare trova degli scritti in lettere greche, in quanto gli Elvezi non avevano un proprio alfabeto, in cui erano contenuti gli elenchi di tutti quelli che avevano preso parte a questo combattimento. Fatte delle somme, erano 368.000, quelli che tornavano in patria erano 110.000, per cui c'erano stati ben 250.000 morti. L'appuntamento è per domani alle 8 della la sera su Radio 2 con il Debello Gallico. Il rata corrige. In questa puntata Elio, con l'irruenza tipica dei giovani un po' ignoranti, ha commesso i seguenti errori. Pittoni, pittoni, santoni, santoni, lingoni, lingoni, orgetorige, orgetorige, ilatovici, latobrigi, allobrogi, allobrogi, dumnorige, dumnorige. Io finirei qui. Cesare batte gli Elvezi, siamo ancora nel primo libro, quindi nel primo anno di guerra, si parla del 58 AC, quindi batte questi Elvezi, li riporta nelle loro terre, gli fa dare del cibo dagli allobrogi, perché questi erano senza più cibo ormai, e contemporaneamente gli arrivano le ambasciate da tutti i popoli galli, perché ovviamente questi sono contentissimi, in quanto questi Elvezi stavano per invadere il territorio della Gallia. Però alla fine di questo incontro con i capi, i capi di alcune città, chiedono a Cesare un incontro segretissimo. Allora Cesare li accoglie e questi iniziano a piangere e a dirgli, per bocca del capo degli edui, di Viziaco, che tutta la Gallia è divisa in due fazioni, l'una che fa capo agli edui e l'altra agli arverni e ai sequani, i quali alverni e sequani per vincere contro gli edui, hanno chiesto l'aiuto ai germani, commettendo un errore fatale. Perché infatti questi germani, che ora sono circa 120 mila nelle terre della Gallia, quando si accorgono che la Gallia è molto meglio del posto in cui abitano loro, si fissano lì e non se ne vanno più. E anzi, dopo la vittoria del loro capo Ariovisto nella battaglia di Ad Magetobriga, che sembra un nome tratto dalle avventure di Asterix, sottopongono i popoli galli a un regime veramente duro, crudelissimo, e quindi il capo degli edui chiede a Cesare di aiutarli. Però, quando termina di dire ciò, Cesare si rende conto che tutti piangono tranne i capi dei sequani, che sono gli unici che stanno lì zitti, fermi, con gli occhi a terra. Allora li interroga varie volte, ma questi niente. Prende allora la parola, ancora una volta, diviziaco, il quale spiega che i sequani non parlano perché sono quelli sottoposti alla sorte più dura di tutte, nel senso che Ariovisto abita nelle terre dei sequani e quindi li sottopone a delle angherie terrificanti. Quindi Cesare, quando vede ciò, si commuove anche un po' e poi ha tanta voglia di combattere contro questi germani bellicosissimi e quindi manda degli ambasciatori a Ariovisto, il quale inizialmente, in modo molto arrogante, dice che se avesse avuto bisogno di qualcosa da Cesare si sarebbe recato da lui, ma poiché era Cesare che voleva qualcosa, spettava a lui recarsi da Ariovisto. Gli sembrava però strano che nella Gallia, a lui sottomessa, ci fosse qualcosa che potesse interessare Cesare. Cesare, da parte sua, non batte ciglio e gli manda degli ambasciatori che gli chiedono delle cose precisissime. In primo luogo di non far passare più contingenti di germani al di qua del Reno e poi di restituire gli ostaggi degli edui in sua mano e di permettere ai sequani di rendere quelli che essi detenevano. Altrimenti egli non avrebbe lasciato impunite le offese arrecate agli edui. A questo punto Ariovisto si rende conto che ha di fronte a sé un duro e tuttavia, dice a Cesare, sempre tramite ambasciatori, che si ricordasse che nessuno aveva combattuto senza danno contro di lui. Venisse pure ad attaccarlo, avrebbe conosciuto qual era il valore degli invitti germani, assai provetti in guerra e così forti che da 14 anni non si erano riparati in un luogo coperto. Viene detto a Cesare quello che Ariovisto dice. Contemporaneamente arrivano anche degli altri messi che informano delle mosse di altri popoli che si avvicinano ai germani, tra cui i temibilissimi Svevi, un popolo potentissimo. Quindi Cesare inizia a preoccuparsi, anche perché gli viene detto che Ariovisto sta andando verso la città di Vesonzione, che è l'attuale Besançon, e quindi lui vuole intercettarlo. Allora va lui verso questa città, marcia giorno e notte, a grandi tappe, e ci entra. Si trattiene qualche giorno lì, ed è lì che iniziano a arrivare strane voci sull'aspetto e sulla forza di questi popoli, cioè dei germani. Gli abitanti di Vesonzione parlano di questi germani come di uomini giganteschi e di straordinario valore in guerra, che molto spesso, quando si erano trovati di fronte a loro, essi non avevano potuto sopportarne neppure l'aspetto. Quindi queste voci diffondono il panico nelle truppe di Giulio Cesare, il quale si trova obbligato a convocare tutti i centurioni di tutti gli ordini e li rimprovera, violentemente. Innanzitutto perché dice possibile che non sappiate che al tempo dei nostri padri, Caio Mario, cioè quello di Mario Silla, battè i loro antenati, i cimbri e i teutoni. Possibile che non vi rendiate conto che gli elvezzi che noi abbiamo battuto poco fa hanno già vinto contro questi germani. Possibile che non capiate che non ci sono assolutamente difficoltà nel rifornimento di vettovaglie perché io, Cesare, ho già organizzato tutto perfettamente. Perciò io, Cesare, affretterò ora la partenza dal campo e se voi invece siete impauriti e ve la fate addosso, per dirla con un termine del ventunesimo secolo, partirò solo io con i miei fedelissimi della decima legione. Detto questo, ovviamente tutti i centurioni chiedono scusa, cambia completamente il loro umore e vanno da Cesare per dirgli che partiranno tutti quanti insieme a lui. Cesare accetta queste scuse e su consiglio di Diviziaco, sempre quell'eduo, parte alle tre della notte con un giro lunghissimo e dopo sei giorni di marcia ininterrotta viene informato dagli esploratori che le truppe di Ariovisto sono a 24 miglia. A questo punto allora Ariovisto si preoccupa un po' e non è più arrogante come era prima, gli manda degli ambasciatori e gli propone un colloquio. Allora qui ci sono delle trattative perché Ariovisto dice a Cesare che non vuole che Cesare arrivi con delle truppe perché ha paura di cadere in un'imboscata, quindi vuole che venga accompagnato solo dalla cavalleria. Cesare che, d'altra parte, non vuole perdere per questi pretesti la possibilità di un incontro, ma che contemporaneamente non si vuole affidare alla cavalleria dei Galli, che per lui sono infidi, sono sempre infidi, toglie i cavalli ai cavalieri Galli e li fa montare dai legionari della sua decima legione. Siamo arrivati quindi all'attesissimo incontro fra Cesare e Ariovisto, il cattivissimo Ariovisto, non che Cesare sia meglio, insomma noi siamo dalla sua parte adesso. Inizia Cesare, gli dice, senti, Ariovisto, noi ti abbiamo dato benefici di ogni tipo, ti abbiamo dato il titolo di re, doni molto ricchi e tu attacchi il popolo degli edui, che è un popolo di nostri amici. Tu sai che noi vogliamo per gli amici le cose più belle, insomma, quindi innanzitutto vogliamo che non soffrano, ma non solo, vogliamo anche che per tutto il tempo che sono nostri alleati e amici, essi migliorino addirittura il loro stato. E quindi io ti chiedo ancora, caro Ariovisto, di non fare guerra agli edui, di rendere quegli ostaggi che hai preso in mano e almeno se non puoi mandare indietro nessuno delle tue truppe, almeno non ne chiamare altre. E Ariovisto allora dice, ma carissimo Cesare, guarda che io sono arrivato qui non per voglia mia, perché io stavo bene là, solo che mi hanno chiesto aiuto e io quando sono arrivato qui con delle guerre li ho battuti e quindi tutte le cose che ho conquistato, tu ora vuoi togliermele? Insomma, è una logica che non fa una grinza proprio. E poi dice, io sono amico vostro, ma se a causa di quest'amicizia io devo perdere delle cose che ho, allora non voglio essere più amico vostro, voglio essere vostro avversario. Poi sul fatto che voi siate amici degli edui, non mi pare che gli edui vi abbiano aiutato nel corso delle ultime guerre, anzi vi hanno anche osteggiato un po'. E quindi io devo credere che tu Cesare prenda a pretesto questa amicizia per servirti dell'esercito che hai in Gallia per battermi. Poi sappi, in ogni caso, e questa è una pulce che ti metto nell'orecchio, sappi che mi sono arrivate delle lettere da tuoi amici, da tuoi alleati, che se io ti uccido sono contentissimi. Quindi fammi fare quello che io voglio qui, perché io non mi sono mai sognato di attaccare te nelle tue terre, mentre ora tu stai attaccando me nelle mie terre. Allora Cesare, con grande tranquillità, continua a dirgli, guarda che io non posso fare un passo indietro, caro Ariovisto, perché comunque la dignità del mio popolo me lo impedisce. Ma mentre dice queste cose, con grande calma, quelli della scorta di Ariovisto, diciamo le sue bodyguardi, iniziano a buttare pietre, frecce, attaccano insomma. Quindi Cesare interrompe bruscamente e torna fra i suoi, che ovviamente sono scandalizzati da tutto quello che è accaduto. E quindi qui termina l'incontro fra i due, il primo incontro almeno fra questi due. Due giorni dopo Ariovisto dice a Cesare, sempre tramite ambasciatori, facciamo un altro colloquio. Cesare ovviamente non va, perché non è mica scemo, e gli manda un suo uomo, un certo Gaio Valerio Procillo, insieme a Marco Mezio, che parla molto bene la lingua dei Galli. Ovviamente Ariovisto, appena vede arrivare questi due, li incatena. E quindi Cesare dice basta, adesso non ne posso più, devo attaccarlo. Inizia a inseguirlo e qui mi sembrerebbe giusto parlare, visto che sta per accadere una nuova battaglia, parlare della tecnica di combattimento dei Germani, che è questa. Si basava su di una formazione di 6.000 cavalieri e altrettanti fanti, ciascuno dei quali era scelto da un cavaliere come sua guardia personale, fra i più valorosi di tutto l'esercito. Con questi i cavalieri combattevano e presso questi si ritiravano. Essi accorrevano se il combattimento era più duro. Aiutavano quelli che, feriti gravemente, cadevano da cavallo e se si doveva avanzare o ritirarsi celermente, tanta era la velocità guadagnata col continuo esercizio che, aggrappati alle criniere dei cavalli, riuscivano a seguirne la corsa. Cesare pone il suo accampamento a 600 passi da quello degli avversari. Dato che il passo romano era lungo un metro e mezzo, qui si parla quindi di 900 metri. E ogni giorno Cesare schiera le sue truppe per attaccare battaglia, ma Ariovisto non ha bocca. Non vuole attaccare, non vuole combattere. Allora ci si chiede tutti per quale causa, finché Cesare viene a sapere da alcuni prigionieri che presso i Germani, per antica consuetudine, le madri di famiglia con sortilegi e profezie stabilivano se fosse o no il momento propizio per attaccare battaglia. E ora queste profezie dicono che ai Germani non è possibile vincere prima della luna nuova. Quindi il giorno dopo Cesare schiera le sue truppe proprio sotto l'accampamento degli avversari, questi non possono più adesso far finta di niente, e quindi escono fuori e si accingono a combattere. Di fronte all'esercito di Cesare ci sono tutti i popoli, gli Arudi, i marcomanni, i triboci, i vangioni, i nemeti, i sedusi, gli svevi, nomi terribili, gente anche dall'aspetto terrificante. Inizia il combattimento, ci sono delle scene di guerra incredibili, ci sono dei militari di Cesare che si gettano sulle falangi dei combattenti germani e tentano di strappare con le mani gli scudi degli avversari e poi di colpirli con delle botte in testa. Si combatte per ore e ore e ore, fino a quando i Germani fuggono e corrono per tantissimo tempo fino al fiume Reno. Corrono per cinque miglia, tentano di attraversare il fiume, alcuni ce la fanno, ma la maggior parte viene sterminata dall'esercito romano. Ario Visto stesso fugge a bordo di una barca che trova lì, le sue due mogli vengono ammazzate e lo stesso Cesare che, attenzione bene, combatteva in mezzo agli altri, mentre insegue alcuni avversari, si imbatte in Gaio Valerio Procillo, il povero Gaio che era stato inviato come ambasciatore, il quale, ci dice Cesare, è avvinto in triplice catena. Gaio, fra le varie cose, racconta che alla sua presenza i barbari avevano per tre volte interrogato la sorte per sapere se ammazzarlo subito con il fuoco oppure no e per tre volte, per fortuna, si era salvato. Si trova anche Marco Mezio e accade anche che il popolo degli Svevi, arrivato alle rive del fiume Reno, vuole tornarsene in patria, ma quando viene intercettato dagli Ubi, un altro popolo che abita lì, che li vede atterriti, viene sterminato dagli stessi Ubi, tanto per fare. Quindi Cesare, concluse in una sola estate queste due difficilissime guerre, conduce le sue truppe negli alloggiamenti invernali e parte verso la Gallia Cisalpina per tenervi le sessioni giudiziali. Termina qui il primo anno di Giulio Cesare in Gallia, io vi aspetto domani sera alle 8 della sera su Radio 2. Il rata corrige. In questa puntata Elio ha commesso alcuni errori. Non doveva succedere ma purtroppo è successo. Inizia il secondo anno di guerre in Gallia, siamo nel 57 a.C. e Cesare viene informato mentre è nei quartieri d'inverno che i Belgi, che sono il popolo che abita più a nord e anche il popolo più forte, come ci dice lo stesso Cesare, stanno stringendo delle alleanze perché vogliono combattere. Allora Cesare senza indugio parte e in 15 giorni circa dalla Gallia Cisalpina, cioè diciamo dal sud della Francia, arriva su in alto in Belgio. Quindi va come un treno. Questa è un'altra delle dotiche a Cesare e che gli fanno vincere tantissime guerre, cioè la sorpresa. Giunge all'improvviso presso il popolo dei Remi, che confina con i Belgi, i quali gli mandano subito degli ambasciatori nelle persone di Itcio e Andocumborio. Egli dicono subito che loro non sono assolutamente alleati dei Belgi, che non vogliono assolutamente fare guerra contro Cesare. Cioè, insomma, Cesare si convince subito che può far conto su questi Remi e quindi chiede subito informazioni sui Belgi e sui popoli alleati dei Belgi. E questi snocciolano subito nomi incredibili tipo gli Atrebati, gli Ambiani, i Morini, i Menappi, i Caleti, i Veliocassi, i Viromandui, gli Aduatucci, i Condrusi, gli Eburoni e i Germani, ovviamente, che c'erano sempre in mezzo. Allora Cesare, che pensa di far subito guerra contro questi Belgi, perché altrimenti le cose diventerebbero preoccupanti, incarica però il suo alleato eduo, Diviziaco, di attaccare contemporaneamente uno degli alleati dei Belgi, cioè i Bellovaci. Questo è il celebre metodo del divide et impera. Qui mi sembra utile parlare ancora una volta del metodo di assalto dei Belgi, come abbiamo fatto ieri per il metodo dei Germani, che è questo. Quando assediano una città, gli attaccanti, disposti in grande numero tutto attorno al perimetro delle mura, cominciano a lanciare pietre. E quando vedono che le mura sono sguarnite dai difensori, alzati gli scudi, formano la testugine, si avvicinano, danno fuoco alle porte e scalano il muro. Immaginatevi questa scena e mettetevi nei panni di chi è all'interno della città. Quindi, con questo metodo, i Belgi assediano la principale città dei Remi, che si chiama Bibratte, a capo della quale c'è proprio Iccio, che ha appena parlato con Cesare. Cesare, invocato e implorato di aiuti proprio da Iccio, manda delle sue truppe e in particolare manda degli arcieri cretesi e dei frombolieri baleari. Immaginatevi quanta strada che hanno fatto questi poveri Cristi, che in ogni caso ottengono l'obiettivo di fare andare via i Belgi, che vedono che questa città non è facilmente assediabile. Cesare insegue i Belgi, attende, attende sempre, attende di arrivare in un luogo buono, perché questa è un'altra delle sue tecniche, diciamo delle frecce al suo arco, cioè la scelta del luogo giusto, cioè del luogo vantaggioso per le sue truppe. Quando trova il luogo giusto, costringe i Belgi al combattimento, i quali Belgi imprudentemente cercano di guadare una fiume, Cesare li attacca proprio mentre guadano e li massacra. Questi Belgi allora pensano che non sia più il caso di fargli guerra, vogliono tornare nelle loro terre, oltretutto i bellovaci sanno che di viziaco, convinto da Cesare, sta attaccando le loro terre e quindi tornano indietro, ma sembra quasi che fuggano, quindi vengono inseguite dall'esercito di Giulio Cesare e vengono massacrati. Dopo l'inseguimento e il massacro dei Belgi, Cesare si accinge a assediare le città dei loro alleati. La prima città incontrata è Novioduno, la capitale dei Suessioni, che viene assediata e qui Cesare dice, quando lo scavo delle gallerie fu spinto presso le mura, il terrapieno fu terminato le torri innalzate, i Galli, colpiti dalla celerità dei Romani e dalla grandezza di quelle opere militari che non avevano mai visto e di cui mai avevano sentito parlare, mandarono a Cesare ambasciatori per trattare la resa. E sì, perché la regola dell'assedio era che dopo il primo colpo di Maglio gli assediati non si potevano più arrendere e gli assedianti, una volta entrati all'interno delle mura, potevano fare qualsiasi cosa e quando dico qualsiasi cosa intendo, cari amici, veramente qualsiasi cosa. Dopo questi fatti Cesare viene informato che c'è un altro popolo in armi, i Nervi, e allora si accinge ad attaccare anche loro. Cosa fanno i Nervi? Allora i Nervi che hanno delle truppe di sola fanteria hanno anche l'uso di mozzare le teste degli alberi, cari amici, non degli esseri umani, ma degli alberi ancora giovani, per far sì che i rami crescano in senso della loro larghezza. E questo per creare delle trame molto fitte di rami che servono a loro per ottenere quindi un bosco impenetrabile, pressoché impenetrabile. Cosa accade? Che Cesare passa con le sue truppe e i Nervi che si sono messi proprio all'interno, si sono posti all'interno di questi boschi, all'improvviso saltano fuori e quindi combattono Cesare con una delle sue armi, cioè la sorpresa. Questo dà origine a un combattimento confusissimo in cui Cesare non può dare ordini perché i suoi avversari, questi nuovi avversari, insomma i Nervi, sono arrivati all'improvviso e quindi le sue truppe vengono schierate secondo la conformazione del terreno e non secondo quello che avrebbe richiesto una precisa tattica di combattimento. Ne segue la cronaca di un combattimento veramente confusissimo e che in a certi punti sembra veramente preludere a una vittoria per questi Nervi, fin quando Cesare fa una cosa per me assolutamente incredibile, cioè visto che la situazione era molto critica, afferra dalle mani di un soldato delle ultime file il suo scudo, poiché non aveva con sé il suo, avanza fino alla prima linea, chiama per nome i centurioni e comanda di portare avanti le insegne e di aprire i manipoli perché si possa più facilmente combattere con le spade. Ovviamente da questo punto in poi le sorti della battaglia cambiano completamente e ancora una volta le truppe di Giulio Cesare battono in modo assurdo le truppe dei Nervi, tanto che alla fine i più anziani di questo popolo dicono a Cesare che il numero dei loro senatori si era ridotto da 600 a 3 e il numero di quelli che potevano portare le armi da 60.000 a 500. Quindi Cesare, per non infierire, e anche perché si vedesse che era generoso verso i vinti e i supplici, salva a questi ultimi Nervi la vita e la libertà e fa in modo che essi stiano nelle loro terre e ordina ai popoli confinanti altresì di non portare loro né danno né offesa. Entrano ora in scena gli Aduatucci, un popolo con un nome che mi piace molto, i quali Aduatucci stavano arrivando in tutta fretta per aiutare i loro alleati Nervi. Quando però si rendono conto che questi Nervi hanno perso, fuggono e si rinchiudono in una delle loro città, Cesare ci dice, molto ben protetta. Cesare arriva con le sue truppe e inizia, con i suoi soliti ritmi, le opere di assedio. E qui accade una cosa che mi piace molto raccontarvi, cioè quando gli assediati vedono che le truppe romane dopo che hanno avvicinato le loro macchine da guerra e fatto il solito terrapieno, costruiscono lontano dalle mura una grande torre, iniziano a prenderli in giro dalle mura e gli chiedono perché una macchina così grande sia costruita tanto lontana e con quali mani e con quali forze uomini così piccoli potevano sperare di muovere una torre tanto grande. Infatti quasi tutti i popoli galli prendevano in giro gli antichi romani perché erano bassi. Questo mi fa molto ridere e credo che faccia ridere Cesare, il quale infatti subito dopo dice che quando gli assediati si accorsero che la torre si muoveva e si avvicinava alle mura, mandarono subito degli ambasciatori a Cesare per trattare la pace. Infatti si erano convinti che gli uomini di Cesare facessero la guerra con l'aiuto degli dèi, visto che era impossibile muovere con tanta velocità delle macchine tanto grandi. Insomma Cesare alla fine concede, come al solito fa quando può, la vita agli assediati, visto anche che non era stato dato il primo colpo di maglio. Ma concede questa grazia a patto che gli aduatuci consegnino tutte le loro armi. Il libro ci dice che le armi degli aduatuci erano talmente tante che buttate dalle mura fecero una pila che arrivava quasi all'altezza delle stesse mura. E qui si parla sempre di minimo cinque metri, quindi immaginatevi quante armi. Accade però, come al solito, un fatto imprevisto. Verso sera Cesare fa chiudere le porte della città e ordina ai suoi soldati di uscirne nel timore che potessero portare qualche offesa agli abitanti. In effetti sono gli abitanti stessi che vogliono portare delle offese invece a Cesare perché questi che non avevano buttato tutte le armi nella notte aprono all'improvviso le loro porte e tentano una sortita. E qui ci dice Cesare che gli aduatuci combatterono con l'accanimento che uomini valorosi dovevano mettere in un combattimento col quale tentavano il tutto per tutto. Quindi anche osserva la loro forza, tuttavia ovviamente perdono. Vengono uccisi circa 4.000 dei loro uomini e gli altri vengono ricacciati all'interno delle mura. A questo punto Cesare non accetta più la loro resa e il giorno dopo fa vendere all'incanto e in un solo lotto tutta la città. E dai compratori gli viene detto che il numero degli uomini ammonta a 53.000, quindi sono tantissimi. Al termine di tutte queste guerre termina il secondo anno di Giulio Cesare in Gallia, egli torna in patria dove il Senato decretò feste di ringraziamento della durata di 15 giorni, cosa che prima di allora non era mai stata fatta in onore di nessun condottiero. Finisce quindi il secondo anno di guerra per Cesare in terra gallica e alla termine di queste guerre la Gallia sembrerebbe completamente soggiogata e la fama di Cesare talmente grande presso i popoli barbari che insomma tantissime genti mandarono messi a Cesare in assegno di sottomissione. E quindi egli stesso pensò di prendersi un po' di tempo per andare in Italia e manda un suo uomo, Servio Galba, con delle truppe nel paese dei Nantuati, dei Veragri e dei Seduni che confinava con quello degli Allobrogi, quindi stiamo parlando diciamo di territorio svizzero, sulle Alpi, con l'obiettivo di aprire un percorso sulle Alpi per i mercanti che attraversavano sempre quei monti ma a continuo rischio della pelle. Quindi Galba occupa la cittadina di Octoduro che è l'attuale Martigny in una stretta valle e è suddiviso in due parti da un fiume, quindi in una parte collocò questi Galli, cioè questi popoli, nell'altra parte di Octoduro invece sistema le sue truppe. Accade però una notte che la parte di villaggio dei Galli viene abbandonata all'improvviso e Galba viene informato che i monti intorno a Octoduro sono occupati da un gran numero di Seduni e di Veragri. Perché? Perché vogliono attaccare guerra, perché questi Galli vogliono sempre attaccare guerra. Allora Galba convoca subito il consiglio di guerra ed è chiaro che ci si trova di fronte a un pericolo grave. Si sa che non possono arrivare cibo, nessun tipo di truppe, aiuti, quindi c'è appena il tempo di mettere ordine, di fare ordine fra le truppe che questi Galli attaccano ancora una volta. Si combatte per ore e ore e ore finché dopo più di sei ore Publio Sesto Baculo e Gaio Voluseno, già cantato dagli Elio e le storie tese in un loro brano, dicono a Galba che la loro unica chance è quella di una sortita improvvisa. Quindi Galba acconsente, dà ordine alle sue truppe di scendere dalle mura e all'improvviso apre le porte dell'accampamento e attacca gli avversari in numero di 30.000. Questa è una tattica che sortisce degli effetti inesperati perché almeno 10.000 avversari sono uccisi mentre gli altri 20.000 fugano. Quindi Galba dopo questi fatti non vuole tentare più a lungo la fortuna e quindi essendosi reso conto che era andato lì con altri piani, quindi grazie a quest'impresa ce l'ha fatta a uscirne vivo, si mette in marcia verso la patria e conduce le sue truppe sane e salve nelle terre dei Nantuati e da lì in quelle degli Allobrogi. Dopo questi ultimi avvenimenti Cesare si era convinto che la Gallia ormai fosse completamente soggiogata. Erano stati battuti i belgi, erano stati espulsi i germani, erano stati battuti anche questi ultimi popoli galli e quindi si accinse a partire per l'illirico perché voleva conoscere anche quei popoli e quei luoghi. Ma ovviamente improvvisamente scoppiò un'altra guerra in Gallia. Ma di questo parleremo domani alle 8 della sera su Radio 2. Errata Corrige. Anche oggi il povero Elio ha commesso alcuni piccoli errori. Li avete scoperti? Eccoveli. Ando Cumborio. Ande Cumborio. Atrebati. Atrebati. Gli aduatucci. Aduatucci. I bellovaci. Belloveci. Gli allobroggi. Allobroggi. Parliamo questa sera del popolo dei Veneti, che è un popolo fortissimo che abita il Veneto, ma all'epoca di Giulio Cesare i Veneti erano un popolo che abitava nella zona nord-ovest della Francia attuale, quindi nell'attuale Bretagna. Cesare ci dice che era un popolo fortissimo che all'improvviso, come fanno tutti i popoli galli, fece una cosa molto strana, cioè catturò degli uomini che erano gli stati inviati per prendere il grano. E in particolare parliamo di Velanio e di Sillio. I popoli tutto intorno ai Veneti, che erano i più forti, li imitarono subito e quindi questo preoccupò Cesare, il quale diede subito ordine di fabbricare delle navi potentissime sul fiume Loira, mise a capo della flotta brutto, proprio quel brutto, quello di tu cuoco e brute, figli mie, e partì alla volta del nord-ovest della Francia. Cosa accade, cari amici? Accade che le città dei Veneti erano impossibili da assediare perché erano poste quasi sempre alla fine di lingue di terra o di promontori non accessibili per via di terra non appena si alzava l'acqua per effetto dell'alta Maria. Pensate alla città di Mont-Saint-Michel. Quindi anche quando le truppe di Giulio Cesare tentavano di assediare queste città, servendosi di opere di altissima ingegneria per bloccare l'acqua, e immaginatevi la complessità di tali opere, tuttavia gli assediati, vistisi persi, fuggivano sempre grazie alle loro navi e quindi era impossibile batterli. Cesare decide allora di affrontarli in mare. E qui entra in gioco il Cesare Ingegnere, che a me piace tanto, quando parla delle caratteristiche delle navi dei Veneti. Dice che erano costruite e attrezzate con carene piatte più di quelle delle nostre navi, per potersi adattare più facilmente alla poca profondità e alla bassa marea. Prore e poppe erano molto alte, adatte a sopportare le grandi ondate del mare in tempesta. In confronto con queste navi, quelle della nostra flotta, avevano i soli vantaggi della velocità e della forza dei rematori. E quindi Cesare si trova obbligato a inventarsi qualche cosa, e questo qualche cosa è una nuova arma, cioè una falce, cioè dei lunghissimi legni, all'estremità dei quali c'è una lama, che taglia tutte le corde delle vele delle navi di questi galli. Insomma, accade che la flotta con a capo brutto, come al solito, vince questa battaglia contro le navi dei Veneti, che vengono detti da Giulio Cesare quei feroci barbari, e alla fine di questa battaglia le navi di questi galli cercano di fuggire grazie al vento, quando all'improvviso il vento cala e quindi esse vengono affondate a una a una. E questo combattimento dura dalle dieci circa del mattino fino alla sera. Cesare, considerata la grande forza dei Veneti, considerato il fatto che i Veneti hanno compiuto un atto, diciamo, non sopportabile, stabilisce di prendere severi provvedimenti, perché per il futuro fosse sacro ai barbari il diritto di inviolabilità degli ambasciatori. Mise a morte i cittadini più autorevoli e vendette gli altri come schiavi di guerra. Mentre Cesare sta combattendo contro questi Veneti, in compagnia del suo fido brutto, che poi non è tanto fido perché, come si sa, brutto dopo qualche anno lo ammazzerà, però intanto sono alleati, insomma, combattono insieme. Mentre sta accadendo questo, siamo sempre nel nord-ovest della Gallia, un uomo di Cesare, Quinto Titurio Sabino, arriva nelle terre del popolo dei Vnelli, il capo dei quali, Viridovice, si allea con altri popoli, gli Aulerci, gli Eburovici, i Lexovi, uccidono tutti i loro anziani saggi che erano contrari a questa guerra e attaccano i Romani, i quali ovviamente scelgono per il loro campo un luogo molto adatto, quindi alto. Le truppe galliche si schierano quotidianamente, poco fuori da questo accampamento, ma Quinto Titurio non esce mai dal suo accampamento, tanto che i suoi avversari iniziano a pensare che egli sia impaurito. Ma questa, come sappiamo, è una delle tattiche tanto care agli antichi Romani e anche a me. Ma questo Quinto finge talmente tanto bene che le sue stesse truppe pensano che lui sia impaurito. Finché si arriva al punto che quando i Galli si convincono del fatto che i Romani siano impauritissimi, a questo punto scatta la parte 2 dell'astutissimo piano. Quinto sceglie fra i suoi Galli uno dei più astuti e lo manda fra le truppe galliche come se fosse un fuggitivo. Ben istruito, questo Gallo dice agli altri Galli che innanzitutto le truppe romane sono impaurite, che non hanno più cibo e che nella notte usciranno dall'accampamento in tutta fretta per aiutare Cesare. Quando sanno questo i Vnelli pensano che sia arrivata l'ora di attaccarli e quindi escono dal loro accampamento in tutta fretta senza attrezzarsi bene, corrono come pazzi verso l'accampamento che ovviamente era posto più in alto e quindi vi arrivano stanchi, oltretutto carichi di legni, fascine con cui riempire la trincea e quindi quando arrivano in alto sono molto stanchi. Questa è la cosa che stanno aspettando le truppe romane attrezzate invece di tutto punto che all'improvviso escono dall'accampamento, sorprendono i Galli e ne fanno strage. Subito tutti gli altri popoli si arrendono, perché Cesare ci dice che come l'animo dei Galli è pronto e audace quando si tratta di iniziare una battaglia, altrettanto fiacca è la loro indole di fronte alla sconfitta. In quello stesso tempo Publio Crasso arriva in Aquitania, che è una zona nel sud-ovest della Gallia e qui è chiaro che Cesare sta attaccando, siamo nel 56, nell'anno 56 e sta attaccando tutta la zona occidentale della Gallia. Publio Crasso quindi arriva nelle stesse terre in cui lui sa che pochi anni prima Lucio Valerio Preconino era stato duramente battuto da quei popoli e quindi affronta il popolo dei Soziati. C'è un attacco di questi Galli varie guerre, gli Aquitani sfruttano le tecniche che hanno imparato nelle loro cave e quindi scavano dei tunnel nei terrapieni degli antichi romani, insomma però come al solito alla fine le truppe di Publio Crasso vincono ancora una volta e gli avversari, questi Galli, mandano un'ambasceria a Crasso chiedendogli di accettare la loro resa, resa che viene accettata, viene loro chiesto di consegnare le armi, loro lo fanno quindi termina tutto qui. Tutto sembrerebbe essere terminato qui ma come al solito questi Galli sono imprevedibili e accade perciò che in un'altra parte del borgo Adiatuano, il comandante supremo dei Soziati, ha concentrato 600 votati o solduri. Allora parliamo di questi solduri che sono apparsi improvvisamente. I solduri sono delle persone che in vita godono degli agi di coloro a cui si sono legati in amicizia, ma se questi improvvisamente muoiono o ne condividono la sorte oppure si uccidono. E Cesare ci dice che per quanto si possa ricordare non si è mai dato il caso di qualcuno che, dopo l'uccisione di colui alla cui amicizia si era votato, si sia rifiutato di morire. Con questi solduri Adiatuano tenta quindi una sortita improvvisa, si alzano alte urla, corrono subito le truppe alle armi e cercano di contenere gli insorti che alla fine vengono respinti all'interno delle mura e tuttavia Adiatuano ottiene da Crasso che le condizioni della sua resa restino invariate. A questo punto Crasso parte alla volta di altri popoli, i vocati e i tarusati. Questi barbari sono preoccupatissimi dal fatto che i Soziati, da loro considerati fortissimi, sono stati battuti e quindi si organizzano in questo modo, cioè mettono a capo delle loro truppe alcuni uomini che negli anni scorsi hanno combattuto insieme agli antichi romani, particolarmente nell'esercito di Quinto Sertorio e quindi conoscono tutte le tecniche romane e combattono i romani con le loro stesse armi. Cioè fanno tutto quello che fanno gli antichi romani, li mettono quindi in gravissima crisi e alla fine decidono di combatterli con un semplice assedio. Le truppe romane interpretano questo atteggiamento come paura, come al solito, e quindi attaccano loro. Ovviamente invece i galli stanno chiusi nel loro accampamento, aspettando l'attimo buono per uscire, ma accade questo, che la cavalleria delle truppe romane si accorge che la porta posteriore dell'accampamento di questi galli ha pochi uomini e quindi scatta subito il piano di attaccarli in quella porta. Quindi Crasso manda alcune cohorti a fare un larghissimo giro per non essere viste. All'improvviso queste cohorti sbucano, attaccano l'accampamento dalla porta posteriore, entrano nell'accampamento, insomma in breve Crasso vince. I galli fuggono e alla fine di questa battaglia la maggior parte degli aquitani si arrende e qui vorrei leggervi, riempiendomi la bocca, il nome di tutti i popoli che si arrendono a Crasso. I Tarbelli, i Bigerrioni, i Ptiani, i Vocati, i Tarusati, gli Elusati, i Gati, gli Ausci, i Garunni, i Sibuzzati, i Cocosati. Insomma, alla fine di quest'anno, del 1956, ci sono solo due popoli che non hanno ancora chiesto a Cesare la pace e questi due popoli sono i Morini e i Menapi. Allora Cesare si porta verso questi popoli i quali invece di attaccare fuggono all'interno di boschi molto fitti ed è impossibile prenderli. Allora, dato che siamo già arrivati all'inverno, Cesare pensa che sia meglio abbattere gli alberi e abbatte grandissime zone di bosco e sistema le sue truppe negli accampamenti invernali. Entriamo in un nuovo anno di guerra gallica, il 1955. Entriamo nel quarto libro. La Gallia sembrerebbe a questo punto essere sottomessa, anche se ci sono due popoli ancora, i Morini e i Menapi, che non hanno mandato degli ambasciatori a Giulio Cesare. E accade che nell'inverno di quest'anno due popoli, gli Usipeti e i Tenteri, cercano di attraversare il fiume Reno. Questo per Cesare vuol dire che arrivano guai, perché sono popoli che arrivano dalla terra dei Germani, quindi sono popoli combattenti. Ma perché arrivano questi Tenteri e questi Usipeti? Perché sono stati per anni combattuti e vessati dagli svevi. E qui capiamo un altro degli aspetti importantissimi di questo libro, perché Cesare ci parla degli svevi, che sono il popolo più bellicoso di tutti i Germani. Si dice che abbiano cento villaggi organizzati in questo modo. Cioè ogni anno forniscono mille uomini armati, mentre gli altri uomini invece restano a casa per provvedere al vitto per se stessi e per le truppe. L'anno dopo cambia il turno e quelli che erano stati a casa partono per andare in guerra, mentre invece quelli che erano andati in guerra, ammesso che siano vivi, tornano indietro. E si occupano loro del vitto. Si occupano sì dell'agricoltura, ma principalmente si nutrono di latte e di carne di pecora e di cacciagione. Queste attività, il genere di cibo che loro mangiano, il fatto che fanno ginnastica tutti i giorni, il fatto che sono molto liberi, i fanciulli non sono sottoposti a nessun vincolo, a nessuna disciplina, accresce la loro forza fisica e li rende uomini di statura gigantesca. Non portano in quei luoghi freddissimi altro che piccole pelli, come abito insomma, e si lavano nei fiumi. Fanno entrare i mercanti nelle loro terre più per vendere i loro bottini che per importare qualche cosa. Non importano neanche i cavalli, hanno dei cavalli che Cesare dice sono piccoli e bruttissimi, ma che con l'allenamento rendono adatti a sostenere fatiche grandissime. Combattono cavalcando questi cavalli piccoli e brutti che sono addestrati in modo tale che quando essi scendono questi si fermano e stanno fermi in quel punto fino a quando non vengono montati ancora. pensano che sia vergognoso far uso della sella, non permettono che venga importato il vino perché pensano che infiacchisca l'animo e penso che non abbiano torto, e in più si vantano tantissimo del fatto che intorno al loro territorio ci sono delle zone completamente disabitate. Pare che addirittura da una parte della frontiera di questo popolo, stiamo parlando degli svevi, ci siano circa 600 miglia di territorio non abitate da nessuno. Quindi stiamo parlando di 900 chilometri che è un territorio veramente estesissimo. Insomma, cos'è accaduto? Che questi svevi da anni vessano questi due popoli, gli usipeti e i tenteri, i quali quindi girano per tanti anni per varie terre e poi pensano di entrare in Gallia. Entrano proprio nel territorio dei Menapi, che sono uno di quei popoli che non hanno ancora chiesto la pace a Cesare. Questi non vogliono farli assolutamente entrare, quindi dopo qualche tentativo gli usipeti e i tenteri tornano indietro, in realtà fingono di tornare indietro, camminano per tre giorni e poi in una sola notte, cavalcando velocemente, tornano indietro e fanno strage del popolo dei Menapi, che ha abboccato al loro trucco e si è trasferito ancora una volta al di là del fiume Reno. Della sorte dei Menapi, però, parleremo domani alle 8 della sera, ancora su Radio 2. Errata Corrige Gentili ascoltatori, vi presentiamo ora alcuni errori commessi da Elion. Vnelli Unelli Usipeti Usipeti Tenteri No Facciamolo meglio Tenteri Facciamolo meglio Tenteri Siamo arrivati al punto in cui due popoli appartenenti ai germani, gli Usipeti e i Tenteri, attraversano il fiume Reno, entrano in Gallia, e quindi Cesare è preoccupatissimo da questi fatti, sia perché questi popoli, essendo germani, sono bellicosi e quindi causa di possibili guai, e sia perché, come ho già detto varie volte, Cesare teme la leggerezza dei Galli, teme la loro volubilità, e pensa che siano assolutamente inaffidabili. Infatti, dice che i Galli hanno l'abitudine di far fermare i viandanti, anche quando questi non ne hanno voglia, e chiedono loro cosa abbiano sentito dire, o se abbiano saputo qualcosa su qualunque fatto. Vengono circondati dalla folla sulle piazze, questi mercanti, e sono obbligati a dire da quale zona vengono, e cos'è accaduto in quelle zone lì, e poi prendono le loro decisioni sulla base di quello che viene detto da questi mercanti, anche se sono cose la cui veridicità sia assolutamente in dubbio. Quindi Cesare, preoccupato da queste varie cose, parte ancora prima del suo solito con le truppe, e infatti quando arriva in zona, cioè quando arriva nelle zone in cui sa che si muovono questi popoli che arrivano da oltre Greno, viene a sapere che i Galli hanno già mandato delle ambascerie per chiedere il loro aiuto, come fanno in genere. Convoca subito i capi della Gallia, e però finge di non sapere niente. Li rassicura, li tranquillizza, e gli dice che vuole combattere contro questi germani. Appena giunge a pochi giorni di cammino da quei luoghi in cui si sa che questi popoli sono arrivati, stiamo parlando sempre degli usipeti e dei tenteri, gli arrivano degli ambasciatori da parte loro, che con il solito tono un po' arrogante dei germani gli dicono che non sono loro che stanno portando guerra per primi al popolo romano, ma che non avrebbero esitato, se attaccati, a ricorrere alle armi, perché era loro antica consuetudine di opporsi sempre con le armi e di non ricorrere a suppliche. Tuttavia, volevano far presente che erano arrivati in quei luoghi non per loro voglia, diciamo, ma perché erano stati cacciati dalla loro patria, dal popolo svevo, che se i romani lo vogliono, essi possono essere loro amici, che gli venissero assegnate delle terre, oppure gli si permettesse di tenere quelle che hanno preso combattendo. Essi si sentono inferiori soltanto al popolo degli svevi, ai quali, dicono, neppure gli dèi immortali possono stare alla pari. Allora Cesare dice quello che gli sembra opportuno, cioè che nessuna amicizia può esserci fra lui e i germani se loro vogliono stare lì. Né era giusto che occupasse terre altrui chi non aveva saputo difendere le proprie terre. Nessun territorio era così libero in Gallia da poter essere assegnato senza danno, e particolarmente a un agente così numerosa. Però, se loro vogliono, è possibile stabilirsi nelle terre degli Ubi, i cui ambasciatori sono presso Cesare, e che si lamentano continuamente delle violenze degli svevi. Gli ambasciatori degli Usipeti e dei Tenteri gli dicono che avrebbero riferito queste proposte, e che sarebbero tornati da Cesare dopo tre giorni. Cesare però non si fida assolutamente perché pensa che questi vogliono prendere tempo, perché gli hanno detto che hanno mandato dei loro uomini oltre il fiume Mosa in cerca di cibo. Quindi pensa che i germani vogliano prendere tempo, e quindi dice no, io non mi fermo assolutamente. A questo punto del libro Cesare parla del fiume Mosa e ci dice che nasce da quella parte dei monti Vosgi che si trova nel territorio dei Lingoni e dopo aver ricevuto un ramo del fiume Reno chiamato Vacalo forma l'isola dei Batavi e si versa nel fiume Reno a non più di 80 miglia dall'oceano. Il fiume Reno a sua volta nasce dal paese dei Leponzi che abitano sulle Alpi e con un lungo corso attraversa impetuoso le terre di questi popoli. Vi ho letto questa parte solo per riempirmi la bocca col nome dei popoli che mi piacciono tanto i Mantuati gli Elvezzi i Sequani i Mediomatrici i Triboci e i Treveri. Cesare quindi continua la sua marcia e quando arriva circa 12 miglia dai suoi avversari gli vengono incontro gli ambasciatori che gli chiedono ancora tempo gli chiedono ulteriormente tempo. Io a questo punto faccio una piccola pausa per citarvi due passi delle vite parallele di Plutarco in cui si narra come Giulio Cesare dettava le sue opere e quindi anche il De Bello Gallico. Durante il giorno si faceva portare in visita alle guarnigioni alle città agli accampamenti ed aveva seduto al fianco uno schiavo che era abituato a scrivere sotto dettatura anche in viaggio e dietro in piedi un soldato con la spada sguainata. durante la campagna militare in Gallia si esercitò inoltre a dettare lettere mentre cavalcava e a tenere testa contemporaneamente a due scrivani dice Oppio o anche più. Ma torniamo al colloquio fra Giulio Cesare e gli ambasciatori. Quindi questi chiedono ancora tempo e Cesare benché convinto che sia tutto un trucco di questi inaffidabili popoli tuttavia dice bene io cammino ancora per 4 miglia perché devo prendere dell'acqua presentatevi nei prossimi giorni in modo tale che io possa parlare con voi di questo vostro trasferimento nelle terre degli Ubi e quindi accetta la tregua però accade che gli avversari appena arrivano in vista della cavalleria attaccano attaccano all'improvviso le nostre truppe ovviamente non sono pronte assolutamente alla lotta e quindi benché siano in numero molto inferiore questi barbari vincono in questa battaglia portata quindi con l'inganno Cesare ci dice che muore un valorosissimo combattente Pisone Aquitano che ha corso per portare aiuto al suo fratello in realtà viene attaccato dai germani con la loro tecnica di combattimento che è quella di buttarsi a terra colpire con una spada il cavallo degli avversari quindi fare cadere in terra il combattente romano e attaccarlo quindi questo Pisone Aquitano per aiutare suo fratello in realtà viene buttato a terra viene circondato dagli avversari e riesce quindi nell'intento di salvare suo fratello ma muore lui accade però che il fratello fuggito quando sa della sua morte corre anche lui contro questi avversari e viene ucciso pure lui quindi muoiono 74 combattenti delle truppe romane Cesare dice io questa ora non gliela faccio passare liscia assolutamente e gli si presenta fortunatamente per lui un'occasione favorevolissima cioè arriva una nuova ambasciata dei germani sono i loro capi addirittura che vogliono chiedere scusa per quello che è accaduto parlano di un errore e chiedono altro tempo qui Cesare dice ora basta non ci casco più assolutamente trattiene questi capi e attacca di sorpresa l'accampamento degli avversari che ovviamente cadono dalle nuvole non sono pronti a intraprendere battaglia e vengono massacrati dall'esercito romano accade quindi che muoiono 430.000 uomini tante erano le truppe dei germani i capi vengono trattenuti da Giulio Cesare nell'accampamento chiedono di non essere messi liberi perché a questo punto temono la vendetta dei popoli galli a cui hanno portato tanta rovina ma Cesare non si sa a questo punto se per magnanimità o per crudeltà li lascia liberi dopo quest'ultima strage di germani perché qui si parla di strage parliamo di 430.000 uomini Cesare pensa che sia arrivata l'ora di attraversare il fiume Reno come al solito Cesare è molto lucido nell'esporci le cause di ciò la causa principale è che visto che i germani entrano continuamente in Gallia è ora di fargli vedere che anche i romani possono entrare facilmente nelle loro terre in più c'era una parte della cavalleria degli usipeti e dei tenteri che era quella che era andata ad approvvigionarsi oltre il fiume Mosa che non era mai tornata indietro Cesare gli manda degli inviati per chiedergli di ritornare indietro ma essi dicono che il fiume Reno segna il limite delle loro terre e quindi se Cesare pensa che non sia giusto che i germani passino in territorio gallico perché vuole avere dell'autorità al di là del fiume Reno purtuttavia Cesare che è furbo dice che il popolo degli Ubi che abita oltre il Reno chiede il suo aiuto perché è sottomesso ed è vessato da anni dal popolo degli Svevi e quindi gli chiede aiuto quindi Cesare arrivati a questo punto pensa per tutte queste cause che deve costruire un ponte sul fiume Reno e questa è una parte che mi è molto cara perché qui entra in gioco il Cesare ingegnere progettista di ponti perché sottolinea fece costruire il ponte lui parla sempre in terza persona quindi Cesare fece costruire il ponte allora io ve lo leggerei perché è interessantissimo e oltretutto se all'ascolto c'è qualcuno che vuole farselo a casa se lo può fare vennero congiunte a due a due alla distanza di due piedi quindi stiamo parlando di 60 centimetri delle travi dello spessore di un piede e mezzo quindi 45 centimetri molto appuntite e di altezza commisurata alla profondità delle acque infatti la costruzione del ponte sul fiume Reno presentava difficoltà di vario tipo perché il fiume Reno è molto largo le acque sono molto impetuose ed è profondissimo Cesare vuole fare cioè perché Cesare vuole fare un ponte e non vuole fare attraversare le sue truppe con delle navi con delle barche perché dice e questa è una cosa che mi fa molto ridere perché questo tipo di attraversamento non sarebbe stato né sicuro né confacente alla dignità sua e del popolo romano quindi queste sono le cause allora siamo arrivati al punto in cui vengono calate queste travi appuntite nel fiume vengono conficcate con dei battipali non diritte e perpendicolari dice ma inclinate come i tetti nel senso della corrente dall'altra parte a circa 12 metri quindi 40 piedi vengono collocate altre coppie di travi speculari quindi inclinate questa volta nel senso opposto alla corrente che poi vengono collegate da pali grossi due piedi quindi 60 centimetri che vengono messi quindi all'interno di queste coppie di travi inoltre a valle del ponte si ficcano degli altri pali che servono per sostenere la forza della corrente e poi all'interno di questa serie di coppie di travi quindi infisse obliquamente si tendono si tirano insomma si appoggiano delle travi lunghe che sono il ponte vero e proprio ultima cosa che fa Cesare a monte del ponte mette degli altri pali che servono per ostacolare tronchi navi e degli oggetti buttati dai barbari per tentare di abbattere questo ponte in dieci giorni questo ponte viene fatto da Giulio Cesare e le sue truppe quindi possono superare il fiume Reno Cesare grazie al suo ponte attraversa il fiume Reno e si porta quindi nelle terre dei Germani dove resta pochi giorni va da un punto all'altro porta visita agli Ubi che sono suoi alleati e dice lui dopo 18 giorni in Germania credendo di aver fatto abbastanza per la propria gloria e per l'interesse di Roma torna in Gallia e distrugge il ponte a questo punto siamo arrivati quasi alla fine dell'estate siamo nell'anno 55 e Cesare pensa che sia arrivata l'ora di fare una visita in Britannia che è una terra pressoché sconosciuta in cui vanno ogni tanto solo dei mercanti e quindi si fa portare tutte quelle navi che erano state usate nella guerra contro i Veneti lui si porta nella zona tanto per intenderci di Calais si parla di Porto Irzio che è l'attuale Boulogne e si accinge a attraversare il canale della Manica però manda in avanscoperta uno dei suoi uomini migliori Gaio Voluseno che abbiamo già incontrato precedentemente il quale con una nave arriva vede un po' di coste inglesi ma non si arrischia a scendere dalle navi né si arrischia ad avventurarsi fra i barbari quindi Cesare un giorno parte arriva in vista della costa e si rende conto che però la notizia del suo arrivo era già stata portata ai Britanni infatti ci sono tutti i barbari schierati sulla costa lui quindi si ancora aspetta un po' poi quando pensa che sia arrivato l'attimo giusto per tentare un primo sbarco si avvicina alla costa e qui le sue truppe vengono attaccate dai barbari con lanci di frecce pietre e quindi c'è una fase di stallo che viene interrotta dall'alfiere della decima legione il quale grida una frase che è una delle poche frasi che vengono riportate da Cesare nel De Bello Gallico con il discorso diretto quindi ve la leggo dice questo alfiere saltate giù compagni se non volete consegnare la vostra aquila ai nemici io da parte mia farò il mio dovere per Roma e per il nostro comandante e quindi come in un film di cowboy questa frase rianima subito le truppe di Giulio Cesare che si gettano dalle navi e cercano di fare questo sbarco di compiere quest'impresa c'è una prima battaglia che ovviamente viene vinta ancora dalle nostre truppe io come vi è chiaro faccio il tifo per Giulio Cesare e poi c'è una prima pace ci sono delle altre guerre e commentando queste guerre Cesare ci parla della tecnica di combattimento dei britanni che ovviamente sono gli antenati degli attuali inglesi ve ne parlo il modo di combattere con i carri è il seguente dapprima i britanni corrono qua e là gettando dardi e col terrore stesso che incutono i cavalli e con lo strepito delle ruote riescono per lo più a mettere lo scompiglio nelle schiere degli avversari poi si insinuano tra le formazioni di cavalleria e saltati giù dai carri combattono a piedi vi confesso che mi sembra di vivere questa scena cioè questa e altre scene che vengono raccontate da Giulio Cesare gli aurighi intanto pian piano escono dalla mischia e collocano i carri in modo che se i loro compagni sono incalzati dai nemici subito possono ripiegare su di essi e riprendere i loro posti così in battaglia hanno contemporaneamente la mobilità dei cavalieri e la stabilità dei fanti e per l'abilità acquistata con l'esercizio quotidiano sono capaci di frenare anche in luogo scosceso i cavalli spinti al galoppo di manovrare facilmente di correre avanti afferrare il gioco dei cavalli e poi sveltissimi ritirarsi nei carri dopo vari fatti ovviamente Cesare vince ancora una volta e quando la notizia di queste vittorie compiute da Giulio Cesare primo uomo giunto in Britannia alla testa di truppe romane arriva arriva Roma viene decrettato dal senato un rito di ringraziamento agli dei per 20 giorni noi ci risentiamo per nuove avventure di Giulio Cesare in Gallia lunedì alle 8 della sera su Radio 2 Errata Corrige In questa puntata inaspettatamente sono stati commessi questi errori Usipeti Usipeti Tenteri Tenteri Treveri Treveri Portoirzio Portoizio Ah sì certo Siamo arrivati all'anno 54 avanti Cristo è l'anno del consolato di Domizio e Claudio e Cesare pensa bene nel suo quinto anno di guerre galliche pensa bene di fare un'altra spedizione in Britannia perché la prima volta ci è andato ma non ha visto bene come sono questi britanni allora fa fabbricare delle nuove navi secondo ancora una volta un suo progetto quindi le fa fare un po' più basse perché dice che tanto le onde dell'oceano sono meno alte poi le vuole un po' più larghe in modo tale che siano in grado di trasportare un po' più merce eccetera insomma ne fa fare tante con le vele con i remi fa fare tantissime navi e parte con una spedizione veramente imponente verso l'isola della Britannia questa volta è atteso da forze di un certo tipo ovviamente naturalmente intraprende guerre contro il capo dei britanni che questa volta si chiama Cassivella 1 ma io ne approfitto per parlarvi di quello che Cesare dice sul carattere degli abitanti di quest'isola dice che la parte più interna della Britannia è abitata da genti che si dicono autoctone invece sulla costa ci sono popoli che arrivano dal vicino Belgio cioè che sono giunti lì alla causa di guerre e di bottino usano bronzo o monete d'oro o al posto delle monete d'oro anche delle verghe di ferro di un determinato peso vi si trova stagno sulle coste si trova il ferro mentre invece viene importato il rame come in Gallia vi è legname di ogni tipo tranne il faggio e l'abete inoltre pensano che non sia lecito mangiare lepre galline e oche che però allevano per divertimento il clima è un po' meno freddo che in Gallia ci dice sempre Cesare e poi passa a una parte che secondo me è al limite del comico e cioè ci dà una prima descrizione geografica dell'isola cioè dice che l'isola ha la forma di un triangolo il primo lato si trova di fronte alla Gallia con un angolo che è quello del Canzio l'attuale Kent rivolto verso est e l'altro verso sud questo lato si stende per circa 500 miglia e va bene l'altro lato è volto invece verso la Spagna e l'Occidente e qui c'è la prima cosa strana da questa parte si trova l'Ibernia che sarebbe l'attuale Irlanda isola che si pensa sia circa la metà della Britannia e che è posta a una distanza pari a quella che divide la Britannia dalla Gallia si crede anche che vi siano parecchie altre piccole isole vicine alla Britannia delle quali molti hanno scritto che nel periodo del sostizio invernale la notte vi duri 30 giorni consecutivi aggiunge Cesare che benché ci informassimo non potremmo sapere nulla di preciso su questo fenomeno ma vedemmo dalle misurazioni delle clessidre ad acqua che le notti erano più brevi che sul continente e poi ci parla delle genti che abitano l'isola della Britannia e ci dice che le genti più civili di tutti sono quelle che abitano il Canzio che non differiscono molto perusi dai galli mentre quelle che abitano le zone più interne per lo più non coltivano grano ma si nutrono di latte e di carne e si vestono di pelli tutti i Britanni indistintamente si tingono con il guado che non so cosa sia che da loro un colore turchino per cui fanno orrore quando combattono portano i capelli lunghi e si radono tutto il corpo tranne che sul capo e sul labbro superiore quindi vuol dire che hanno dei baffi si riuniscono in gruppi di dieci o dodici di cui fanno parte fratelli padri e figli e attenzione prendono le mogli in comune e i bambini che nascono sono considerati figli di quello che si è unito per primo alla donna reduce dalla sua ultima impresa in Britannia dove ha battuto il re Cassivella 1 Cesare torna in Gallia e tiene a Samarobriva l'assemblea dei galli siccome quell'anno però il raccolto di grano a causa della siccità è molto scarso Cesare è costretto a sistemare le sue truppe per l'inverno in modo differente dagli altri anni e in particolare questo è importante manda Quinto Titurio Sabino e Lucio Aurunculeio Cotta presso il popolo degli Eburoni che allora erano sotto il comando di Ambiorige e Catuvolco perché dico che è importante perché come al solito questo popolo improvvisamente si ribella sotto gli ordini di questi due re e attacca le truppe romane questo attacco viene sì contrastato subito però questi popoli chiedono subito un colloquio vengono mandati degli ambasciatori che sono Gaio Arpineio e Quinto Giugno ai quali Ambiorige dice le solite frottole però questa volta sono un po' più articolate perché chiede sempre scusa per il suo attacco insomma è stato un loro errore di non arrabbiarsi e però avverte che stanno arrivando dei Germani da oltre Reno che vogliono attaccare le truppe romane quindi che si mettano in salvo tornati nell'accampamento questi due ambasciatori riferiscono quello che gli è stato detto e a questo punto accade la vera cosa grave cioè che i due comandanti delle truppe romane su questo argomento litigano perché Titurio crede a quello che gli viene detto e quindi dice andiamocene subito Cotta invece dice ma questi sono degli avversari quindi può anche darsi che ci abbiano detto delle frottole e quindi noi stiamo qua barrichiamoci nell'accampamento tanto sappiamo che siamo i più forti in assoluto litigano tanto che alla fine uno dei due deve cedere e purtroppo cede Cotta quindi nella notte in grande fretta le truppe romane si mettono in viaggio questa era la cosa che stavano attendendo i barbari che fanno un'imboscata organizzano un'imboscata in due punti della selva attaccano le truppe e allora anche in questo combattimento Cesare ci dice che Titurio si comporta male in modo improvvisato come se non avesse messo nel conto un possibile attacco mentre invece Cotta è pronto molto freddo da ordini brevi precisissimi fatto sta che i barbari vincono e Cotta viene colpito da un colpo di fionda Titurio non pago del fatto di essere cascato nel trucco di questi barbari chiede un ulteriore colloquio Ambiorige glielo concede e nel corso del colloquio piano piano Titurio viene circondato dagli avversari e viene ucciso invece Cotta muore eroicamente combattendo e nel corso di questo combattimento Cesare cita il comportamento eroico dell'alfiere Lucio Petrosidio che schiacciato da un gran numero di avversari getta l'aquila al di là della palizzata nell'interno del campo combattendo con grande valore Ambiorige esaltato da quest'ultima vittoria cerca di convincere altri popoli ad aderire alla ribellione va dagli aduatuci e li convince subito va dai nervi e convince subito anche loro i nervi convincono dei popoli che erano sottoposti a loro i ceutroni i grudi i levaci i pleumozi i geidumni ma quanti popoli c'erano in Gallia tantissimi e tutti questi popoli tutte queste truppe improvvisamente si presentano sotto l'accampamento di Cicerone che è il fratello minore del Cicerone molto più celebre insomma cosa accade? questi assediano l'accampamento romano Cicerone subito manda delle lettere a Cesare ma qui andiamo a parlare del problema delle lettere cioè come vengono inviate queste lettere ovviamente attraverso dei messaggeri che sono degli uomini che cercano di intrufolarsi fra le truppe degli avversari e di arrivare all'accampamento degli alleati purtroppo però per noi tutti questi messi vengono catturati e uccisi e quindi Cicerone non può dire a Cesare che è assediato deve far conto solo sulle sue forze allora questi nervi con i loro alleati cercano di assediare assediano assediano Cicerone tiene duro finché Ambiorige si gioca anche con lui la carta del colloquio lo convoca e cerca di raccontargli le stesse frottole che aveva detto agli sfortunati Titurio e Cotta ovviamente Cicerone non ci casca e a questo punto Cesare ci parla quindi nel proseguo del combattimento che si sviluppa con degli incendi all'interno dell'accampamento romano ci parla dell'episodio dei due centurioni Pullone e Voreno che sono in perpetua gara per superarsi l'un l'altro e per ottenere quindi la promozione Pullone come un pazzo esce dall'accampamento urlando e si lancia contro gli avversari prendendo in giro il suo avversario cioè il centurione suo avversario il quale allora per non essere da meno di Pullone si butta anche lui contro quegli avversari insomma corrono il rischio di essere ammazzati e alla fine ammazzano moltissimi galli ma si salvano l'un l'altro l'assedio continua e la salvezza di Cicerone si chiama Verticone chi è Verticone? un nobile nervio che fin dal primo istante chiede aiuto e assistenza a Cicerone il quale lo convince a mandare uno dei suoi schiavi come messaggero ovviamente questo nervo fra i nervi si intrufola fra le truppe degli avversari arriva da Giulio Cesare Giulio Cesare manda una sua lettera scritta attenzione in caratteri greci in modo tale da non essere capita dai barbari se fosse stato catturato il messo e raccomanda questo nervo se si fosse trovato in condizioni pericolose di lanciare un giavellotto con la lettera attaccata all'interno dell'accampamento di Cicerone il messaggero nervo esegue perfettamente il suo compito lancia il giavellotto con la lettera attaccata che però si infigge in una torre dell'accampamento e non viene letta prima di due giorni il giavellotto lanciato dal messaggero nervo resta infisso nella torre dell'accampamento per due giorni finché viene visto da qualcuno all'interno del campo viene letta quindi la lettera che Giulio Cesare ha mandato alle sue truppe è scritta in caratteri greci proprio per non essere letta dagli avversari e suscita quindi grande entusiasmo all'interno dell'accampamento Cesare arriva e ancora una volta vince grazie anche a uno dei suoi stratagemmi e cioè fa costruire alle sue truppe un campo fortificato piccolissimo con delle vie molto strette al suo interno in modo che gli avversari galli sottovalutino le sue forze questa ennesima vittoria di Giulio Cesare non porta però la pace in Gallia come al solito ci sono dei popoli che friggono ancora ad esempio i senoni uccidono il loro re Cavarino che gli era stato imposto da Giulio Cesare poi ci sono anche degli altri segnali che dicono a Cesare chiaramente che non c'è ancora la calma in Gallia particolarmente il capo dei tre veri Indutiomaro continua a mandare Messi oltre il Reno per chiedere l'aiuto dei Germani i quali però questa volta non vengono più perché sono stanchi delle bastonate prese da Giulio Cesare e quindi Indutiomaro però non vuole arrendersi e cerca delle alleanze con gli altri popoli galli il suo prestigio viene accresciuto insomma è un pericolo in particolare per Tito Labieno il quale si trova in un campo fortificato molto bene quindi effettivamente non teme assolutamente i suoi avversari però finge di essere impaurito Indutiomaro ogni giorno schiera le sue truppe sotto le mura dell'accampamento fortificato e i suoi uomini per l'intera giornata lanciano pietre frecce insultano i loro avversari e ogni giorno avviene questo e si convincono sempre di più che i loro avversari siano impauriti finché arriva il giorno in cui dopo un'intera giornata di insulti pietre frecce alla sera le truppe dei treveri si allontanano stancamente dall'accampamento romano improvvisamente su preciso ordine di Tito Labieno si aprono le porte del campo escono i soldati romani che invece di fare strage rincorrono sempre su preciso ordine induti omaro lo raggiungono mentre sta attraversando il fiume e lo decapitano finisce con quest'azione un nuovo anno di guerre galliche e io vi aspetto domani su radio 2 alle 8 della sera scherrata corrige nel corso di questa puntata sono stati storpiati i seguenti nomi posso fare molto meglio cari amici di giulio cesare e delle guerre galliche siamo arrivati al sesto anno di guerre siamo nel 53 avanti cristo e giulio cesare ancora una volta si aspetta però nuovi moti perché questi galli insomma non stanno mai tranquilli questa ormai è una cosa che abbiamo imparato quindi rinforza le sue truppe e indice il concilio dei popoli della gallia a cui infatti confermando la sua impressione non intervengono i senoni i carnuti e i treveri allora cesare cosa fa perché si vedesse che lui attribuiva grande importanza a queste assenze trasferisce la sede del concilio a lutezia che tutti i lettori di asterix sanno corrispondere alla città di parigi in più concede il perdono a accone che era l'istigatore di questa nuova ribellione e quindi insomma temporaneamente sembra che cesare abbia ancora una volta calmato le acque ma cesare fa una cosa molto importante e cioè scrive in questo sesto libro quelle che sono le caratteristiche principali del popolo gallico cosa che non aveva ancora fatto prima ci sono delle cose veramente interessanti ad esempio cesare ci dice che in gallia ci sono due categorie di uomini che sono tenuti in gran conto e questi sono i druidi e i cavalieri tutti gli altri cioè quelli che appartengono alla plebe sono visti né più né meno come degli schiavi e quindi non possono prendere nessuna iniziativa non possono prendere parte alle assemblee mentre invece grande importanza viene attribuita ai druidi questi druidi sono quelli che si interessano del culto quelli che provvedono ai sacrifici pubblici e privati cioè quelli che si occupano della religione dei galli devono decidere in quasi tutte le controversie pubbliche e private se viene commesso qualche delitto se sorge una lite per un'eredità sono sempre i druidi che entrano in azione ma chi sono questi druidi questi druidi obbediscono a un unico capo che ha su di loro la più alta autorità i druidi non partecipano a nessuna guerra non pagano tasse e quindi attirati da questi privilegi così grandi tanti giovani si recano da questi druidi per essere loro allievi e anzi molti padri li mandano da questi druidi perché ovviamente come ho detto un druido viene visto come una personalità di altissimo livello è come se oggi fosse non so un vescovo usano per tutti i loro documenti l'alfabeto greco e appena possono evitano di scrivere qualsiasi cosa questo perché non vogliono che le norme che regolano la loro organizzazione siano conosciute dal popolo e fanno ciò anche perché gli allievi dice Cesare non le studino con minore diligenza confidando nei libri scritti i galli d'altra parte sono molto dediti alle pratiche religiose e quindi per esempio quelli che sono ammalati gravemente o che si trovano in guerra fanno dei sacrifici umani oppure fanno voto di immolare se stessi e si servono dei druidi come esecutori di questi sacrifici credono infatti che gli dei immortali non possano essere soddisfatti se non si dà in cambio della vita di un uomo la vita di un altro uomo perciò fanno continuamente sacrifici ufficiali e addirittura certi popoli costruiscono delle statue immense fatte per esempio con il vimini intrecciato che riempiono di uomini vivi e a cui poi danno fuoco credono che le vittime preferite dagli dei siano i ladri oppure quelli che commettono qualche altro crimine ma quando mancano questi sacrificano anche tranquillamente degli innocenti continuo quindi a darvi importanti informazioni sugli usi e costumi dei galli ad esempio permettono ai figli di presentarsi loro in pubblico solo quando sono in età tale da poter prestare il servizio militare e questo è assurdo credono cosa vergognosa che un fanciullo si fermi davanti al padre in presenza degli altri poi c'è una cosa interessante gli uomini hanno diritto di vita e di morte sulle mogli e sui figli quando muore un capofamiglia di nobile stirpe si fanno subito delle indagini sulla moglie e poco tempo fa nel rito diciamo dei funerali che sono Cesare ci dice lussuosissimi anche i servi e i clienti cui era particolarmente affezionato l'uomo morto venivano bruciati insieme a lui gli usi dei germani invece sono di tutt'altro tipo infatti non hanno druidi che si occupino del culto non si curano di sacrifici considerano come dei e divinità solo le cose pratiche quelle che loro vedono quindi il sole vulcano e poi credono che i giovani quanto più a lungo restano casti tanto più saranno forti e diventeranno alti considerano fra le cose più vergognose aver contatto con una donna prima dei vent'anni eppure poi fanno il bagno tutti insieme nudi insomma non si dedicano assolutamente all'agricoltura e cosa molto interessante nessuno ha terreni di proprietà privata quest'uso lo spiegano adducendo varie cause ad esempio perché un'abitudine prolungata non muti il loro interesse per la guerra con quello per l'agricoltura oppure perché non sentano il desiderio di accaparrarsi grandi proprietà non considerano infamante il furto se lo si commette fuori dai confini delle loro terre anzi dicono che serve per esercitare la gioventù e allontanare la pigrizia le terre più fertili di tutta la Germania sono quelle intorno alla selva Ercinia dove ci dice Cesare vivono degli animali singolari c'è un quadrupede simile al cervo che porta in mezzo alla fronte fra le orecchie un solo corno più alto e più dritto di quelli degli animali che sono noti a noi che alla sommità si divide come una palma in rami di grande estensione poi c'è una specie di bue detto uro che è un bue che noi sappiamo essersi estinto tanti anni fa e poi ci dice Cesare ci sono le cosiddette alci queste sono interessantissime che hanno aspetto e pelo simile a quello delle capre ma sono un po' più grandi hanno corna mutile e gambe senza giunture né articolazioni non si sdraiano per dormire e non possono quando cadono rialzarsi o sollevarsi allora per dormire si appoggiano agli alberi e vi restano semplicemente un po' inclinate quando i cacciatori si accorgono dalle orme che ci sono queste alci nel luogo dove sanno che esse andranno tagliano gli alberi e li rimettono lì in modo che sembrino ancora integri in modo tale che quando le alci vi si appoggiano per addormentarsi con il loro peso li abbattono e cadono insieme agli alberi intanto Cesare imperterrito stava continuando nel suo sforzo di placare diciamo di sedare tutti questi tentativi di ribellione e in particolare torna ancora una volta al di là del fiume Reno in Germania perché perché erano stati mandati altri aiuti ai Galli quindi Cesare interrogando il popolo degli Ubi suo alleato insomma scopre che questi aiuti sono stati mandati dagli svevi i temibilissimi svevi quindi cerca di attaccarli ma questi svevi fuggono nelle selve e quindi Cesare preoccupato dal fatto che i germani come è già stato detto non si occupano per niente dell'agricoltura e quindi preoccupato del fatto che non troverebbe il grano lì torna indietro torna in Gallia taglia il ponte per una lunghezza di 60 metri e pensa di inseguire Ambiorige che è una minaccia continua per lui e per le sue truppe allora dà ordine a un suo uomo Lucio Minuccio Basilo di attraversare velocemente le Ardenne cosa che sottolineo fece anche Hitler quando invase la Francia quindi Hitler non ha inventato assolutamente niente ha inventato tutto Cesare Basilo quindi esegue perfettamente l'ordine che gli viene dato da Cesare e qui si parla della fortuna Cesare ci dice che la fortuna in guerra può moltissimo infatti Basilo avanzando velocemente attraverso i boschi improvvisamente sorprende Ambiorige indifeso e impreparato gli piomba addosso ma ancora una volta entra in gioco la fortuna e quindi dopo una colluttazione Ambiorige fugge quindi Cesare ci dice che molto potè la fortuna dopo aver messo in pericolo Ambiorige permise poi che riuscisse a porsi in salvo Ambiorige fuggendo da ordine a tutti i suoi uomini di fuggire anche loro quindi questi scappano da ogni parte fuggono nei boschi fuggono verso il mare Catuvolco suo alleato in un primo tentativo di ribellione essendo però più anziano e quindi non in grado di sopportare né una guerra né una fuga dopo aver imprecato contro Ambiorige che era stato il promotore di quell'impresa si uccise con il tasso le cui foglie si diceva fossero velenose ecco che a questo punto però paradossalmente Cesare non sa come fare per affrontare i galli che si sono dispersi su tutto il territorio dietro ordine di Ambiorige allora escogita questa idea cioè manda dei messaggeri ai popoli confinanti e facendo loro intravedere la possibilità di una preda li invita a saccheggiare il territorio degli Eburoni però avviene qualche cosa che Cesare non aveva immaginato e cioè dopo che fa fermare le sue truppe nella città di Aduatuca dove c'è una fortificazione che era quella fabbricata da Titurio e Aurunculeio Cotta morti in un combattimento precedente i Sigambri un popolo invogliato dai messaggeri di Cesare a fare bottino nella terra degli Eburoni si avvicinano sempre di più e vengono convinti da un prigioniero ad attaccare proprio la fortificazione di Aduatuca pieni di speranza i germani quindi partono verso Aduatuca facendosi guidare proprio da questo stesso prigioniero da cui hanno avuto il suggerimento andandosene Cesare aveva detto a Cicerone che sarebbe tornato dopo sette giorni quindi il fratello minore dell'oratore di cui si è parlato già nelle puntate scorse Cicerone eseguì fedelmente gli ordini che gli erano stati dati tenne tutte le sue truppe nell'accampamento per sette giorni ma al settimo giorno pensando che Cesare ormai non arrivasse più e poi spinto dalla sua truppa che interpretava quest'attesa ormai come un vero e proprio assedio dato che non era possibile fare niente pensò che non ci fosse un pericolo grandissimo nel raggio di tre miglia e quindi mandò cinque coorti a mettere il frumento nei campi poco lontani purtroppo il caso volle che proprio allora arrivassero i cavalieri germani dei Sigambri che senza neanche cambiare andatura entrarono nel campo dalla porta posteriore e provocarono quindi una confusione terribile c'era chi diceva che ormai il campo era già stato preso chi affermava che Cesare fosse morto ma la maggior parte era atterrita dall'idea superstiziosa che in quello stesso accampamento erano morti poco tempo prima Titurio e Cotta intanto era rimasto nell'accampamento ammalato Publio Sestio Baculo un valorosissimo centurione primipilo agli ordini di Giulio Cesare che da cinque giorni non toccava cibo quando però vide l'attacco degli avversari e la gravità della situazione disperando della sua salvezza e di quella di tutti gli altri afferrò dalle mani dei suoi compagni le armi e si portò alla porta combattendo ovviamente perse i sensi dopo pochi attimi però questo forse aiutò i suoi compagni a contenere l'impeto dei germani che infatti dopo poco se ne andarono con il bottino preso negli assalti precedenti quando tornò Cesare che conosceva bene quante possano essere le vicende di una guerra si lamentò soltanto che le corti fossero state mandate fuori dall'accampamento infatti disse non si deve lasciare mai nulla al caso e giudicò che la fortuna aveva potuto molto nell'improvviso arrivo dei barbari ma molto di più nel fatto che essi si fossero allontanati quando già stavano per impadronirsi di tutto l'accampamento insomma Cesare fa tutta una serie di incursioni per cercare di catturare Ambiorige il capo degli Eburoni ma questa cosa non gli riesce assolutamente e infine si rifugia a duro cortoro per gli accampamenti invernali io vi aspetto domani sera per altre avventure di Giulio Cesare in Gallia alle 8 della sera su Radio 2 Errata Corrige Per completezza di informazioni vi comunichiamo che nel corso della puntata sono stati storpiati i seguenti nomi accone ambiorige ambiorige aduatuca aduatuca duro cortoro duro cortoro per completezza per completezza siamo arrivati con la storia delle guerre galliche all'anno 52 avanti Cristo quindi sono già sette anni che Cesare è in guerra in questa terra Cesare come ogni anno torna in Italia pensando che la Gallia ormai sia tranquillizzata e invece come al solito non è assolutamente vero infatti incontriamo la figura più interessante di tutto il libro e cioè Vercingetorige chi è Vercingetorige? è un nuovo capo gallo figlio di Celtillo Arverno ambiziosissimo che vuole farsi re trova l'opposizione di suo zio Gobannitione lui ovviamente se ne frega se ne fa un baffo e inizia a allearsi con vari popoli i Senoni i Parisi i Pictoni i Cadurci i Turoni gli Aulerci i Lemovici gli Andi e tutti i popoli delle rive dell'oceano dice Cesare che Vercingetorige alla grande diligenza univa una grande severità nel comando costringeva gli incerti con la paura delle pene più severe condannava a rogo o a ogni sorta di supplizi chi era colpevole dei delitti più gravi a chi commetteva qualcosa di più lieve faceva tagliare le orecchie o cavare un occhio poi li rimandava nelle proprie case perché fossero di ammonimento per gli altri e li atterrissero con la gravità delle pene Vercingetorige quindi raccoglie un grande esercito e cerca di incendiare tutta la gallia con il sentimento della ribellione verso Cesare quando Cesare sa tutto questo parte istantaneamente per la gallia attraversa le alpi piomba alle spalle dei galli che non si aspettano assolutamente che degli uomini attraversino questi monti pieni di insomma neve e molto freddi e inizia a assediare le città dei galli inizia con Vella 1 d'1 la città dei senoni poi assedia Cenabo che è l'attuale Orléans assedia Novio d'1 insomma inizia a battere Vercingetorige continuamente Vercingetorige quindi parla ai suoi e qui si incontra per la prima volta il genio di questo condottiero perché dice ai suoi dato che abbiamo perso tante volte è opportuno cambiare tattica bisogna assolutamente impedire l'approvvigionamento alle truppe romane si deve sacrificare per la salvezza di tutti l'utile dei singoli insomma bisogna incendiare le città non abbastanza difese da fortificazioni perché non siano rifugio per i galli che si vogliano sottrarre al servizio militare e al contempo non siano meta per i romani che vogliono rifornirsi di viveri e che vogliono fare bottino questa proposta viene approvata da tutti quanti con grande entusiasmo vengono incendiate più di 20 città dei piturigi alla fine però si arriva al punto di incendiare anche la loro capitale avarico a questo punto i piturigi si gettano ai piedi dei loro capi e li pregano di non obbligarli a incendiare con le loro mani quella che era la più bella città di tutta la gallia che era anche un po' il vanto del loro popolo alla fine vercingetorige acconsente a queste suppliche ma questo si rivelerà un grande errore cesare inizia l'assedio di avarico la capitale dei biturigi questa è una città circondata da un fiume che offre solo un piccolissimo passaggio quindi cesare si pone proprio in questo punto e inizia tutte le sue opere di assedio quindi immaginatevi gente che porta terra per fare una terra pieno per arrivare quindi all'altezza delle mura accosta delle tettoie in legno innalza delle torri era impossibile infatti fare una trincea tutto intorno alle mura di questa città contemporaneamente dall'interno delle mura il popolo gallo cerca di opporsi a quelle opere e quindi con dei lacci cattura le falci delle truppe romane e con delle apposite macchine le tira dentro le tira all'interno delle mura con delle gallerie sotterranee creano il vuoto sotto al terrapieno poi fabbricano delle torri all'interno delle mura cercano poi di fare ogni tanto delle sortite sia al giorno che alla notte per incendiare tutto quello che viene fatto dagli assedianti e qui Cesare ci parla delle mura delle cittagalle che questo mi sembra interessante mi sembra un argomento interessante che erano generalmente costruite con delle travi perpendicolari all'andamento del muro stesso distanti fra loro due piedi queste travi erano collegate nella parte interna e coperte con molta terra il rivestimento esterno era formato da grossi blocchi di pietra resi più solidi incastrandoli negli spazi tra palo e palo quindi alla fine c'era un insieme di legno e di pietra che si opponeva quindi all'incendio ma anche all'azione della riete l'assedio era molto duro oltretutto le truppe romane erano senza cibo per tutta quella tattica che abbiamo detto prima di vercingetorige e in 25 giorni tuttavia innalzano un terrapieno largo 330 piedi e alto 80 quindi cari amici stiamo parlando di 100 metri di larghezza per 24 metri di altezza quindi un'opera veramente imponente e qui Cesare ci parla di una scena molto interessante cioè di un gallo che all'improvviso in una di quelle sortite in cui essi cercano di incendiare le opere di assedio aperta la porta gettava nel fuoco verso una delle torre degli assedianti pezzi di sego e di pece che gli venivano passati di mano in mano fu colpito al fianco destro da una saetta e cadde morto uno di quelli che gli erano dietro scavalcò il morto e assunse la stessa funzione costui fu colpito a morte nello stesso modo e fu sostituito da un altro e poi un altro e un altro ancora e Cesare ci dice che quel punto non fu lasciato vuoto mai finché il fuoco del terrapieno non venne spento insomma i galli mettono in opera ogni genere di espediente ma alla fine le truppe di Cesare entrano nella città approfittando di un temporale e alla sera si contano circa 40.000 morti di cui solo 800 solo 800 degli abitanti di Avarico tornano da Vercingetorige il quale li accolse in piena notte silenziosamente temendo che qualche moto potesse scoppiare nel campo per la pietà provocata dalla notizia del loro arrivo il giorno dopo Vercingetorige parla alle sue truppe e dice loro parole di conforto e prega i suoi di non avvilirsi e di non abbattersi perché dice io ve lo avevo detto che sarebbe stato meglio incendiare questa città e non combattere contro Cesare voi non mi avete dato retta ma ora non abbattetevi perché io voglio allearmi con altre genti abbiamo perso questa battaglia ma vinceremo la nostra guerra queste parole piacciono ai galli particolarmente perché vedono che Vercingetorige non si avvilisce di fronte a una sconfitta tanto grande e non ha evitato di presentarsi al suo popolo quindi continua questa guerra fra Vercingetorige e Cesare Cesare si trattiene vari giorni ad Avarico quando all'improvviso viene a lui un'ambasciata degli edui che lo pregano di porre termine a una controversia che è sorta improvvisamente fra due loro capi che asseriscono entrambi di essere stati eletti con una legge giusta equa uno è Convictolitave un giovane forte e ricco e l'altro invece è Cotto discendente da una famiglia antichissima Cesare è molto in dubbio perché dice io sono qua che sto combattendo contro questo avversario Vercingetorige tanto forte e ora voi mi chiamate fino là per questa storia insomma che non mi sembra tanto importante però pensa anche che gli edui sono suoi alleati da tanto tempo quindi alla fine va e scopre che Cotto era stato eletto da un gruppo di pochi capi in un luogo e in tempi illegali e quindi dice che il giusto capo è Convictolitave questo è molto importante perché Convictolitave tornerà tra un po' quindi Cesare torna e va verso la città di Gergovia lungo il fiume Allier Cesare cammina su un lato del fiume e dall'altra parte del fiume ci sono tutte le truppe di Vercingetorige che lo tiene d'occhio gli sega tutti i ponti quindi fa in modo che Cesare non passi dall'altra parte Cesare allora escogita uno dei suoi soliti trucchi cioè nasconde una parte delle sue truppe in un bosco e poi finge di continuare lungo il fiume allargando un po' i suoi uomini per far credere a Vercingetorige che le truppe siano sempre quelle Vercingetorige a bocca loro camminano per un bel po' lungo questo fiume Allier quando sono abbastanza lontani le truppe nascoste fra gli alberi escono dal bosco ricostruiscono il ponte e quindi Cesare torna velocemente e beffa Vercingetorige il quale non vuole combattere in quel punto e fugge Cesare arriva quindi a Gergovia pone il suo accampamento fa anche un piccolo accampamento supplementare collegato a quello principale da un camminamento di 12 piedi un camminamento doppio di 12 piedi in modo che anche uomini isolati potessero andare dall'uno all'altro al sicuro dagli attacchi degli avversari ma Cesare è sempre sottoposto ai continui cambiamenti di umore degli edui infatti alcuni giovani edui cappeggiati da Litavico convincono Convictolitave che era appena stato aiutato da Giulio Cesare a passare dalla loro parte Litavico che è il giovane capo di questa rivolta convince le truppe edue che stanno andando in aiuto di Giulio Cesare che i loro capi Eporidorige e Viridomaro sono morti sono stati uccisi proprio da Giulio Cesare quando tutto questo giunge alle orecchie di Giulio Cesare Cesare decide che ne ha abbastanza prende parte delle sue truppe corre 25 miglia lascia una parte dell'esercito ad assediare Gergovia va dagli edui li circonda ma senza combattere e mostra loro che i due capi Eporidorige e Viridomaro sono ancora vivi a questa immagine gli edui tese in alto le loro mani in segno di resa gettano le armi e supplicano Cesare di non essere uccisi intanto gli altri edui che non sanno quello che è avvenuto e si fidano di quello che gli ha detto Litavico si danno agli atti più scellerati quindi spinti dall'avidità dall'ira dalla temerarietà e si danno a saccheggiare i beni dei cittadini romani a ucciderli a farli schiavi quando però giunge alle loro orecchie la voce che era tutto falso e che i loro capi sono vivi ovviamente chiedono subito scusa a Cesare Cesare non ha nessun interesse a catturare questi perché lui vuole innanzitutto le truppe degli edui che sono suoi alleati e poi effettivamente lui studia il modo di allontanarsi da Gergovia senza che quest'allontanamento assuma l'aspetto di una fuga perché pensa che la Gallia sia in subuglio e che altre genti presto lo attaccheranno mentre pensa a tutto ciò e quindi fa la pace con gli edui gli si prospetta la possibilità di un colpo di mano infatti vede che c'è un colle libero di fronte alla cittadina e allora escogita questo trucco verso l'alba fa uscire dall'accampamento una grande quantità di muli e ordina ai mulattieri di mettersi l'elmo e di fingere di essere cavalieri li fa convergere tutti in un punto abbastanza lontano dalla città in modo tale che possano essere visti ma nello stesso tempo non si capisca che non sono dei cavalieri proprio veri quindi gli assediati vanno tutti verso quel punto lì e lasciano libero l'accampamento Cesare contemporaneamente porta piano piano tutte le sue truppe o una grande quantità delle sue truppe all'interno dell'accampamento più piccolo attraverso quel camminamento doppio e dà precisissimi ordini di attaccare ma non di entrare nella città cioè di compiere quello che si chiama un colpo di mano insomma ora va detto che la cittadina di Gergovia è posta alla sommità di un colle e le mura di questa cittadina distano in linea retta dal piede del colle 1200 passi che sono 1800 metri alla metà circa del colle c'è un altro muro alto 6 piedi quindi un metro e 80 all'interno cioè nella zona fra questo muro e le mura della città ci sono degli accampamenti di truppe galliche Cesare dà il segnale dell'attacco e dà ordine di non entrare nella cittadina ma semplicemente di attaccare quelle truppe che sono in quella zona lì i legionari partono come razzi arrivano subito a questo primo muro lo superano e sono talmente rapidi che Teutomato il re dei miti obrogi viene sorpreso all'improvviso nella sua tenda mezzo nudo e fugge per un pelo Cesare a questo punto è già pago dà con la tromba il segnale della ritirata ma questo segnale di tromba non viene sentito e questi pazzi continuano ad andare avanti scalano il monte e addirittura scalano le mura della città questo è un imprevisto per Cesare che allora pensa di far uscire delle coorti perché sa che non c'è alcuna possibilità di successo e allora fa uscire delle coorti per aiutare le sue truppe che si sono spinte così tanto avanti in breve ci sono dei combattimenti in condizioni sfavorevoli alla fine dei quali muoiono 46 centurioni c'è l'atto di eroismo del centurione Marco Petronio che vistosi perso mentre sta cercando di scardinare una delle porte di Gergovia dice agli altri andatevene io ormai sono perso e combattendo contro i suoi avversari muore ma salva tutti gli altri il giorno dopo Cesare rimprovera aspramente le sue truppe gli dice che ammira il coraggio ma che li biasima perché pensano arbitrariamente di essere più intelligenti del loro capo alla fine di questa adunanza prende le sue truppe e giudicando di aver fatto abbastanza per sminuire le vanterie dei galli parte alla volta degli edui chi vuole avere altre informazioni su quello che ha fatto Giulio Cesare in Gallia può ascoltarmi domani sera su Radio 2 alle 8 della sera e rata corrige purtroppo è successo in questa puntata inaspettatamente sono stati invertiti gli accenti dei seguenti nomi la pentola della Gallia bolle gli edui alleati storici di Cesare improvvisamente attaccano la città di Novioduno dove Cesare tiene tutto perché ci sono soldi grano truppe e quindi gli edui ufficialmente passano dalla parte di Vercingetorige Cesare quando sa tutto ciò pensa su cosa è meglio fare certamente non vuole tornare nella sua patria perché pensa che questo atto lo esporrebbe al disprezzo di tutta la Gallia oltretutto ci sono delle altre truppe nel nord della Gallia agli ordini di Tito Labieno cosa fa Tito? Tito pensa che non sia più il caso che non sia più il caso di combattere in modo offensivo ma deve cercare di portare le sue truppe presso Cesare e quindi ingaggia un combattimento molto duro contro il popolo dei Bellovaci agli ordini del loro capo camulogeno si combatte aspramente alla fine Tito vince e riesce a portare le sue truppe presso Cesare all'annuncio della defezione degli edui gli stessi edui indicano un'assemblea di tutti i popoli galli che prendono parte alla ribellione e chiedono a Vercingetorige di essere loro i capi i popoli galli invece vogliono che Vercingetorige sia il capo quindi gli edui si adattano malvolentieri a questo fatto all'assemblea non prendono parte i popoli dei Remi dei Lingoni e dei Treveri i primi perché sono alleati storici delle truppe romane e i Treveri invece perché sono troppo lontani e poi sono continuamente sotto la minaccia dei Germani accade allora che Vercingetorige ordina ai popoli galli di consigliargli nuove truppe Cibo convince tutti con la sua solita tattica a incendiare villaggi città per non dar modo a Cesare di approvvigionarsi Cesare si vede obbligato a chiedere aiuto addirittura ai Germani quindi manda dei messi oltre Reno per fare arrivare delle truppe che arrivano mentre accade tutto ciò Vercingetorige pensa che sia giunta l'ora di attaccare quindi convoca tutte le sue truppe i cavalieri lo acclamano e giurano che nessuno sarebbe stato ricevuto in una casa né si sarebbe accostato ai figli ai suoi padri alla moglie stessa se non avesse attraversato per due volte le linee degli avversari si attacca il combattimento che in breve però viene vinto da Cesare grazie soprattutto all'aiuto delle truppe dei Germani che intanto sono giunte da oltre Reno vengono portati a Cesare dei nobili edui Coto il comandante della cavalleria Cavarillo il capo invece della fanteria dopo la defezione di Litavico e soprattutto Eporedorige già alleato di Giulio Cesare e capo della guerra degli edui contro i Sequani vista la fuga della sua cavalleria Vercingetorige porta le sue truppe verso il teatro della prossima epica battaglia la città di Alesia Alesia è posta alla sommità di un colle molto alto Cesare si rende conto subito che può prenderla solo per assedio questo colle è bagnato da due fiumi poi ai suoi lati ci sono altri due colli di pari altezza Cesare arriva nella piana che è proprio di fronte alla città e trova però che lo spazio sotto le mura è occupato completamente dalle truppe dei Galli Cesare giunto in vista della città di Alesia pensa a quali possono essere le opere di assedio inizia quindi la costruzione di un primo fosso di un vallo che calcola deve essere lungo 11 miglia 11 miglia cari amici pensate vuole dire 16 chilometri e mezzo circa Vercingetorige quando si rende conto che sta per essere chiuso all'interno di questo fosso convoca la sua cavalleria e ordina loro di uscire nella notte dalla parte che non è ancora stata attaccata dalle truppe di Giulio Cesare di andare nelle proprie città e di ordinare a tutti quelli che sono in grado di portare le armi di accorrere in suo aiuto e di portare cibo perché Vercingetorige calcola che le scorte che lui ha bastano a stento per 30 giorni inoltre ritira all'interno delle mura tutte le truppe che ora sono sotto alle mura Cesare intanto continua a pensare alle opere che deve fare innanzitutto fa scavare un fossato profondo 20 piedi con le pareti verticali 20 piedi cari amici vuol dire 6 metri quindi è un'opera imponente un fosso di 16 chilometri e mezzo e alto 6 metri pensate quanta gente coinvolta in questi lavori poi siccome non vuole che gli avversari arrivino a ostacolare questi lavori alla distanza di 400 piedi all'interno stiamo parlando quindi di 120 metri dà inizio a tutta una serie di opere che servono appunto per ostacolare gli avversari innanzitutto scava due fossi larghi 15 piedi e alti altrettanto 15 piedi sono 4 metri e mezzo il primo fosso lo fa invadere dalle acque che vengono fatte defluire con opere di ingegneria da uno dei due fiumi che scorrono accanto alla cittadina di Alesia dietro questi fossi costruisce un terrapieno e una palizzata alta 12 piedi 12 piedi sono 3 metri e mezzo non pago aggiunge a questa palizzata un parapetto in legno merlato e inoltre dei pali appuntiti e forcuti che servono per ostacolare la scalata degli avversari inoltre pensa che sia necessario costruire altre opere per ostacolare gli assediati cioè i galli che ogni tanto escono improvvisamente dalle porte della città e con delle sortite cercano di incendiare le opere che vengono approntate quindi Cesare aggiunge a tutti questi fossi e questi muri anche i cippi cosa sono i cippi sono dei tronchi d'albero con i rami molto forti che lui fa tagliare fa scortecciare ne fa appuntire le cime e li fa inserire all'interno di fosse continue della profondità di 5 piedi quindi fa sistemare 15 file di tronchi collegati fra loro e di fronte a questi cippi colloca anche i cosiddetti gigli cosa sono i gigli allora sono altri rami altre pali insomma appuntiti disposti in linee oblique come i punti nel 5 dei dadi infigge in queste buche questi tronchi grossi quanto un femore molto lisci e appuntiti induriti con il fuoco sulla punta che non emergono di più di 4 dita dalla terra copre queste buche con giunchi e cespi in modo da dar vita a delle sorte di trappole insomma di fronte a questi gigli non ancora pago pone dei pioli della lunghezza di un piede che portano nella parte superiore degli uncini di ferro disseminati in ogni luogo questi artifici vengono detti stimoli finite queste opere Cesare pensa che mentre sta assediando questa città potrebbe essere attaccato alle sue spalle e quindi inizia a concepire la possibilità di un fossato all'interno del quale chiudere le sue truppe Cesare come suo solito passa dal pensiero all'azione e quindi dà ordine di costruire una linea di difesa esattamente speculare all'altra però rivolta verso degli avversari che certamente tra qualche tempo arriveranno prima di chiudersi all'interno di quest'ulteriore linea si procura cibo per 30 giorni e quindi ora siamo nella situazione un po' assurda insomma strana in cui c'è una città assediata in cui gli assedianti si auto assediano all'interno di queste due linee intanto nelle città dei Galli tutti i popoli Galli accorrono e quindi si stanno raccogliendo delle truppe per andare ad aiutare gli abitanti della città di Alesia tanti popoli danno uomini gli Aulerci Brannovici i Blannovi gli Arverni gli Eleuteti i Cadurci i Gabali i Vellavi i Ruteni i Carnuti a ognuno di questi popoli si ordina di dare un certo numero di uomini si ordina anche al popolo dei Bellovaci di dare 10.000 uomini ma i Bellovaci con un atteggiamento che mi piace molto non mandano tutti quegli uomini perché dicono che loro vogliono fare guerra ai Romani come vogliono loro quindi alla fine supplicati da tutti gli altri acconsentono a dare 2.000 uomini a capo delle truppe viene posto Commio sono delle truppe imponenti perché si parla di 8.000 cavalieri e circa 240.000 uomini Commio Cesare sottolinea questo Commio è un suo ex amico un suo aiutante uno che l'aveva aiutato molto per esempio quando Cesare era andato in Britannia e quindi insomma lui è molto amareggiato ma capita spesso che in queste guerre chi ti era stato alleato prima non ti è più alleato dopo e potrebbe esserti alleato in una guerra che arriverà insomma quindi è un fatto assolutamente non anomalo inoltre a capo delle truppe dei Galli vengono posti anche altri ex amici di Cesare Viridomaro e Eporedorige i capi degli edui in più si associa a questi tre Vercassivella I cugino di Vercingetorige partono le truppe dei Galli mentre gli assediati nella città intanto hanno consumato tutto il loro cibo e quindi pensano a cosa sia meglio fare insomma in un'assemblea prende la parola un cittadino nobile Arverno di nome Critognato il quale dice fra le altre cose facciamo quello che fecero i nostri antenati nella guerra contro i Cimbri e i Teutoni cioè essi chiusi nelle loro città di fronte a una carestia anche peggiore di questa tirarono in lungo la loro vita nutrendosi delle carni di quelli che non sembravano atti alle armi quindi gli abitanti della città al termine della discussione decidono di far uscire dalla città gli ammalati insomma i vecchi quelli che non servono a niente secondo la loro logica i quali si portano si accostano alla linea dell'accampamento romano e supplicano i soldati di accogliergli e di dar loro cibo ma Cesare non cede a queste suppliche intanto arrivano le imponenti truppe dei galli che si appostano a non più di mille passi dalla linea fortificata costruita da Giulio Cesare l'arrivo dell'esercito di 240.000 uomini e 8.000 cavalieri suscita il grandissimo entusiasmo degli abitanti di Alesia che agli ordini di Vercingetorige stesso escono dalle mura della città e si accingono a attaccare la linea di fortificazione fatta a fare da Giulio Cesare quindi Cesare si trova attaccato come si usa dire su due fronti c'è un primo combattimento che dura da mezzogiorno al tramonto e che si chiude a vantaggio di Giulio Cesare grazie ancora una volta all'apporto delle truppe dei germani germani alleati di Giulio Cesare passa un intero giorno che i Galli usano per costruire gratticci scale e uncini per attaccare le linee difensive di Giulio Cesare e il giorno il giorno dopo c'è un nuovo attacco dei Galli ancora una volta Vercingetorige e Speranzoso esce dalle mura con le sue truppe quindi c'è un nuovo attacco su due fronti che però questa volta viene vinto da Cesare grazie all'apporto di lanciatori di pietre del peso di una libra cioè tre etti attraverso fionde attraverso l'uso di fionde quindi respinti due volte con grandissime perdite i Galli pensano che sia l'ora di cambiare tattica individuano un punto nella fortificazione esterna che sembrerebbe essere debole perché c'è un'altura dove non è stato possibile fabbricare tutta quella serie di fossi che vi ho detto prima e quindi Vercassivella 1 cugino di Vercingetorige al comando di 60.000 uomini punta verso quella zona Vercingetorige ancora una volta visto dalle mura della sua città questo attacco esce dalle mura e quindi qui c'è il terzo e ultimo attacco delle truppe dell'esercito Gallo il più duro perché i combattenti di tutte e due le parti capiscono qui che questo è il momento in cui bisogna fare lo sforzo assoluto i Galli perché vedono l'impossibilità di salvarsi se non riescono a rompere le linee di difesa i Romani perché sentono che invece sarebbe stata la fine di tutte le fatiche se avessero vinto quindi ci sono dei combattimenti all'ultimo sangue Cesare manda un gran numero di truppe verso il punto in cui sembra che i Galli facciano breccia intanto in altri punti perché queste linee di fortificazione hanno un perimetro veramente lungo quindi Cesare non può mandare truppe in ogni punto sembra che i Galli facciano breccia in vari punti finché Cesare stesso interviene in un punto ma prima dà ordine a una parte della cavalleria di uscire dalle mura e di attaccare le truppe avversarie alle loro spalle quindi Cesare va verso il punto in cui sembra che i suoi avversari facciano breccia lì converge un gran numero di uomini di uomini Galli perché vedono Cesare arrivare dal colore della sua veste quando sembra che tutto sia perduto improvvisamente arriva la cavalleria di Giulio Cesare alle spalle dei Galli ne fa grande strage e quindi Giulio Cesare vince questa che è la battaglia decisiva di questo anno di combattimenti il giorno dopo Vercingetorige convoca il suo consiglio dichiara di non aver intrapreso la guerra per proprio tornaconto ma per il bene di tutti quanti e dice che se può essere utile lui si consegnerà a Giulio Cesare Giulio Cesare pone il suo seggio sulle fortificazioni e ordina che gli siano portati Vercingetorige e tutti i capi avversari e qui termina questa epica battaglia chi volesse sentire altre battaglie compiute da Giulio Cesare in Gallia deve sintonizzarsi su Radio 2 domani alle 8 della sera Errata Corrige il povero Elio ha commesso alcuni piccoli errori li avete scoperti? no eccoveli bellovaci bellovaci camulogeno no camulogeno lingoni lingoni treveri treveri vercassivellauno no vercassivellauno vellauno eh lo so solo che devo iniziamo oggi la lettura dell'ottavo e ultimo libro del De Bello Gallico ottavo libro che parla degli ultimi due anni di guerre in Gallia ed è scritto da Aulo Irzio generale di Giulio Cesare perché non lo ha fatto Cesare? perché Cesare intanto è impegnato nella guerra civile e quindi Aulo Irzio si scusa innanzitutto per non essere così bravo come Giulio Cesare subito dopo inizia a parlare di nuovi moti in Gallia come ogni anno questi popoli galli non stanno mai tranquilli e quindi accade che i biturigi si agitino allora Cesare lascia Bibracte e parte verso questo popolo e lo batte ancora una volta poi arriva il turno dei Carnuti e allora Cesare batte anche questi infine giunge voce a Cesare che il popolo dei Bellovaci sta tentando di attaccare i Suessioni che sono clienti dei Remi grandi alleati di Giulio Cesare allora Cesare pensa che non possa stare fermo e parte verso questi Bellovaci il capo dei Bellovaci si chiama Correo il piano dei Bellovaci è questo attaccare battaglia se Cesare arriverà con truppe scarse se invece Cesare arrivasse con più truppe tendergli solo dei piccoli agguati mentre è impegnato nelle operazioni di approvvigionamento Cesare viene a sapere da varie fonti concordi che questo è il vero piano dei Bellovaci e allora escogita uno dei suoi tanti trucchi cioè cerca di far credere loro che effettivamente sta arrivando con poche truppe le schiera in modo che sembrino poche i Bellovaci abboccano al trucco ma non attaccano quindi Cesare aspetta ancora e alla fine pensa che deve attaccare lui ma non può attaccare con quelle poche truppe allora manda alcuni messi a uno dei suoi generali Trebonio perché gli porti delle altre truppe intanto però deve approvvigionarsi deve prendere il grano deve prendere il cibo e ogni giorno viene sottoposto a dei piccoli attacchi di questi Bellovaci Cesare ci dice che Gio avveniva ogni giorno e come suole accadere quando una cosa continua per molto tempo l'abitudine faceva diminuire la vigilanza per cui un giorno accade che i Bellovaci tendono un'imboscata a un piccolo distaccamento di remi i quali si trovano di fronte a pochi uomini avversari li inseguono si inoltrano in un fitto bosco e dopo un po' sono circondati dalle truppe dalle ben più imponenti truppe degli avversari che li circondano e ammazzano il capo di questi remi un certo principe Vertisco i Bellovaci sono imbaldanziti da questo successo parziale tanto che quindi continuano scontri quotidiani ma di piccolo taglio diciamo piccoli scontri finché si arriva al punto in cui i germani che Cesare aveva fatto venire presso le sue truppe per combattere con la cavalleria improvvisamente passano tutti assieme con impeto l'acqua e inseguono questi barbari che fuggono ignominiosamente questo combattimento ci dice Auloirzio turbò a tal punto i barbari che a stento si potrebbe stabilire se essi siano più inclini ad inorgoglirsi per modesti successi o ad avvilirsi per mediocre avversità passano molti giorni arrivano nuove truppe sia da una parte che dall'altra parte finché un giorno Cesare pone dei ponti sulle acque si schiera di fronte ai Bellovaci che si vedono persi e allora fuggono grazie a un trucco si passano di mano in mano fasci di frasche e di paglia che abbondavano nel campo e su cui i galli usavano sedere quando erano schierati per la guerra danno fuoco a questa paglia e con l'interrotta linea di fiamme nasconde alla vista dei romani i galli che ne approfittano per fuggire rapidamente Cesare si rende conto subito che i Bellovaci dietro quelle fiamme forse stanno fuggendo e allora dà ordine alle sue truppe di avanzare ma non troppo velocemente perché teme qualche imboscata perché sa che i galli sono infidi e quindi permette ai Bellovaci di fuggire per più di 10 miglia e di porre il loro accampamento in una posizione molto forte continuano perciò i quotidiani agguati dei Bellovaci a danno delle truppe di Giulio Cesare perché loro sanno che non possono attaccare Cesare faccia a faccia perché lui è troppo forte Cesare viene a sapere di un nuovo piano dei Bellovaci che vogliono attirare le truppe che vanno per approvvigionarsi in un grande campo e far loro un'imboscata Cesare finge di non esserne informato manda le sue truppe schieratissime attrezzatissime e pronte a tutto i Bellovaci escono dal bosco in piccolo numero per far credere di essere deboli e attirare quindi nel bosco le truppe romane che non ci cascano gli contrappongono pochi uomini insomma si dà vita a un combattimento che in breve coinvolge invece tutte le truppe dei Bellovaci nascoste nel bosco e per un po' si combatte con pari forza poi all'improvviso arriva l'annuncio che stanno arrivando i rinforzi con Giulio Cesare a capo allora a questo annunzio i romani fiduciosi nell'aiuto di Cesare presero a combattere col massimo slancio per evitare di dover dividere la gloria e il merito della vittoria con le legioni che stanno arrivando per cui in breve tempo vincono i Bellovaci fuggono e sono ostacolati dagli stessi boschi che pensavano gli sarebbero stati di grande aiuto Correo combatte fino all'ultimo e viene ammazzato conclusasi in questo modo anche questa battaglia vengono inviati a Giulio Cesare ambasciatori dai Galli Vinti che chiedono di non essere più attaccati Cesare accetta questi ostaggi ma vuole cacciare l'ultimo suo grande avversario quel commio che era già stato suo alleato ma che adesso è fuggito presso i Germani quindi manda un suo uomo Gaio Voluseno con il pretesto di parlargli ma con l'ordine preciso di ucciderlo i due uomini si trovano a colloquio Voluseno così come gli è stato detto afferra la mano di commio ma il centurione non ce la fa a ucciderlo pur ferendolo gravemente al capo con la sua spada gli uomini di tutte e due le parti impugnano le loro armi ma più con l'idea di fuggire che di combattere perché pensavano che ci fossero dei trucchi ci fosse qualcos'altro qualche altro trucco pronto e alla fine commio non viene ucciso ma si dice che commio non volle più presentarsi davanti a un romano dopo questi fatti Cesare si accorge che nessun popolo più vuole fargli guerra però tutti si allontanano dalle loro terre perché non vogliono essere sottoposti a Cesare stesso e quindi pensa che sia il caso di attaccare quell'ambiorige che ormai è impotente non ha più uomini ma che gli antipatico insomma questo ambiorige erra atterrito nelle sue terre e allora Cesare disperando di poterlo catturare pensa che il metodo migliore sia quello di devastare le sue terre in modo tale che egli odiato per tante disgrazie da tutti i suoi uomini non avrebbe più avuto la possibilità di tornare nella sua patria mentre Cesare compie tutte queste imprese in altre parti della Gallia accadono altri fatti drammatici per esempio in una città dei Pictoni Le Mono detta oggi Poitiers un alleato degli antichi romani un certo Durazio è assediato da Dumnaco capo degli Andi appena i generali Caninio e Fabio sanno questo vanno verso questa città l'assediano e battono subito il loro avversario contemporaneamente si viene a sapere che due capi Galli Drappete e Lucterio raccolte molte forze stanno tentando addirittura di attaccare la provincia questo sembra incredibile alle truppe romane e allora questo stesso Fabio va verso questi due capi che si sono impadroniti della città di Uxello d'Uno detta oggi Puy di Solu questa Uxello d'Uno è una città molto salda per posizione perché è difesa da rocce a picco allora i capi romani pensano che sia il caso di assediarla dividono le coorti in tre piccoli gruppi e fanno tre accampamenti intorno a questa città in modo da fabbricare i loro trinceramenti i cittadini di Uxello d'Uno pensando di incorrere negli stessi rischi che erano accaduti agli assediati di Alesia lasciano la città e vanno a fare grandissime scorte di cibo cioè grano ma si fermano fuori dalla città e fanno un accampamento carichi di questo grano Drappete si ferma a guardia dell'accampamento mentre Lucterio conduce la colonna verso la città ma i capi romani si accorgono di questa mossa attaccano Lucterio uccidono tutti Lucterio fugge nell'accampamento i capi romani attaccano anche l'accampamento e catturano quindi questi due capi nel frattempo Cesare arriva sotto le mura di Uxello d'Uno si rende conto che quell'assedio non può essere interrotto assolutamente e quindi pensa a quale può essere la sua prossima mossa vede che i cittadini scendono continuamente per approvvigionarsi a una sorgente che sembra essere l'unica e allora inizia dà inizio anzi a tutta una serie di opere per impedire che gli abitanti di Uxello d'Uno si riforniscano d'acqua e quindi siano presi per sete dà quindi ordine di costruire un terrapieno che raggiunge l'altezza di 60 piedi quindi stiamo parlando di 18 metri e su questo terrapieno fa porre una torre alta 10 piani e tuttavia questa torre non arriva ancora all'altezza delle mura quindi pensate com'era alta questa città tuttavia è sufficiente per lanciare frecce contro tutti quelli che cercano di andare a prendere l'acqua insomma allarmati da tutto ciò gli assediati allora iniziano a buttare oggetti che incendiano tutto quello che ha fabbricato Cesare quindi barili pieni di pece e di sego che quando arrivano contro il terrapieno e la torre si rompono e danno fuoco a tutto quanto allora Cesare finge di attaccare le mura di Uxelloduno con altissime grida gli Uxellodunesi sono costretti a tornare sulle mura e quindi Cesare può spegnere quell'incendio alla fine grazie all'utilizzo di gallerie che interrompono l'approvvigionamento della sorgente non arriva più l'acqua e quindi gli abitanti di Uxelloduno sono presi da una disperazione tanto grande che pensano che tutto ciò non sia stato fatto da Cesare ma dalla volontà degli dèi e così vinti dalla necessità si arrendono Cesare rendendosi conto che la sua calemenza è ormai nota a tutti e quindi non temendo di essere accusato di crudeltà pensa altresì che in questo caso sia necessario applicare dei castighi esemplari e severissimi da ordine quindi di amputare le mani a tutti coloro che avevano impugnato le armi contro le sue truppe Drappete uno dei due capi della ribellione resta senza mangiare per vari giorni e alla fine muore di fame Lucterio d'altra parte l'altro capo erra impazzito per le selve si affida infine al capo Arverno Epasnacto che essendo uno degli alleati di Giulio Cesare glielo consegna immediatamente si viene intanto a sapere che Commio Atrebate che era stato fatto re degli Atrebati proprio da Giulio Cesare sta compiendo sta tendendo degli agguati ai danni delle truppe di Giulio Cesare viene dato quindi ordine al nemico storico di Commio quel gaio quadrato voluseno che lo aveva quasi ucciso in un episodio precedente di dargli la caccia voluseno ben volentieri si dispone a eseguire quest'ordine dispone degli agguati riesce a venire a contatto e a attaccare con buon esito i suoi avversari infine mentre la lotta è più accanita spinto dal desiderio di catturare personalmente Commio lo insegue ostinatamente con pochi uomini allontanandosi però troppo dal grosso delle sue forze allora Commio invocando la fedeltà e l'aiuto dei suoi uomini perché non lasciassero invendicate le ferite che egli aveva ricevute a tradimento volge il cavallo e staccandosi dagli altri si slancia impetuosamente contro il prefetto lo stesso fanno anche tutti i suoi cavalieri che volgono in fuga le truppe romane che erano poche e le inseguono Commio lancia il cavallo spronandolo energicamente addosso al cavallo di Voluseno e ferisce costui attraversandogli con un colpo di lancia una coscia visto ferito il prefetto i nostri voltati di nuovo i cavalli caricano e riescono a respingere gli avversari ferendone tantissimi mentre altri furono calpestati nella corsa e altri ancora catturati Commio riesce a mettersi in salvo per la velocità del suo cavallo il prefetto che era stato ferito gravemente quasi morto viene riportato all'accampamento Commio sia che si considerasse vendicato sia che lo intimorissero le gravi perdite dei suoi mandò dei messi ad Antonio offrendosi di fermarsi in qualsiasi punto e di ubbidire agli ordini confermando i patti con la consegna di ostaggi chiese solo che gli fosse concesso dato il suo timore di non doversi trovare di fronte a nessun romano Antonio accettò Cesare quindi pensa a questo punto che i combattimenti nella Gallia transalpina siano definitivamente terminati quindi lascia il comando della Gallia al suo generale Tito Labieno e va verso Roma perché intanto il Senato ha ordinato di mandare alla guerra contro i parti una delle legioni di Pompeo e una di quelle di Giulio Cesare ma giunto a Roma Cesare si rende conto innanzitutto che le legioni sono state tolte solo dal suo esercito e che oltretutto sono ancora ferme in Italia assegnate a Pompeo questi sono evidentemente i prodromi della guerra civile ma di questa guerra parla un altro libro il Debello Gallico termina qui io spero non solo di non avervi annoiato ma anzi di avervi convinto a leggervi personalmente questa bellissima storia una storia avvincente scritta da un uomo eccezionale Giulio Cesare questa volta Elio non ha commesso errori percorso netto no Errata corrige nel corso della puntata sono stati commessi i seguenti errori siamo d'accordo i biturigi biturigi bellovaci bellovaci ambiorige ambiorige pictoni pictoni il tono andava bene? no ciao